ho sentito un sora 45 squadre euro lo compi comunque fede complimenti per l'organizzazione è fighissima grazie grazie a bello e seven che ha una buona connessione ci siamo un po messi a vedere come fare a castare tutto quindi bella 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 ci piaceva farla così e vabbè a parte qualche problema l'altro giorno esploso twitch che in pratica c'era un evento su fortnite non lo sapevamo quindi già quando abbiamo cominciato non lo so sinceramente cos'era sempre con fortnite il quarto va larga vediamo un po' una forma di davasso il solto no ah qualcuno ha detto no 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 devo liberarmene no no ho già provato una volta ah sbagliato mi sono allargata mannaggia 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 ma 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 è grande turbo bravo turbo grazie non è vero ti sento tu l'hai anche detto ok ma quello che però quello che marca quindi per la prima poi e lei gli mette due va vedi dentro che sei programmata cioè potrebbe essere però potrebbe allora poi ci sta gola aspetta un secondo che ora ti dico le piste gola baio fiale eh baio ballo fiale all'assemblaggio colle tempio di tiny e fiera vabbè però tanto non le stiamo facendo in ordine perché la prima era ma anche la sì vabbè la sto facendo così ma non molto molto così giusto per rivedermi gli errori ma benvenuti tutti siamo full dice pal paletta no no aspettiamo controllo non mi ricordo siamo uno due tre quattro cinque sei sette otto siamo full quindi sì fiale ecco la prossima vai ss non lo so fare no tanto il torneo è evitato quindi no infatti non fatelo no 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 raga io posso rimanere fino fino alle sette e mezzo poi poi devo andare anche noi ma è michele più meno allora poi dove vai a cacare ma no giocamina vabbè dunque l'ho fatta un po' a casa in realtà questa live non chi c'è c'è chi viene viene chi va da pagare giusto per salvarmi e vedere gli errori che faccio in gara comunque damas è una cosa dimmi tutto ma come mai ti metti sempre la skin di finto per bp faccio il gelosauro e mi piace il rosso ma capisco io metto questa sempre qua di roboscura perché mi piace e poi con questa ho fatto uguale con due dp a parte qualche pista col ping nooo ho toccato ma alla fine non state trollando alla fine ero quinto ma hanno fatto arrivare ultimo ma se ero io primo ma ho fatto quasi tutta la gara primo che non solo mettono il mio sul po no io ero prima all'inizio sai c'è nella mia visuale mi vedevo prima appunto sto dicendo solamente una rumi o sul passato a ok ho sbagliato su baia però eh vabbè ahia ho stato di nuovo vedi che io devo parlare questa è la un grande 23 qua sarà un più qualche mezzo che ha malaffare ecco appunto sono filo di sereare che si sta buttandoci punti che sono parecchi mi trattamento di dare armi non nooo oddio ah l'ultimo giro nooo bella nooo grazie coso alla prossima mi ricordo che c'è proprio ragione in realtà stiamo andando in disordine quindi vedete voi ci sta gola ballo all'assemblaggio colle vedi un po' tu quale vuoi fare da 12 a 30 ballo povera me che vuoi? che vuoi? che vuoi? che vuoi? però vengo con te vedi ti ho ragione ma che vuoi? chi vuoi? una vuoi aprire una vuoi aprire e poi la vuoi aprire e poi la vuoi aprire e poi la vuoi aprire che vuoi aprire hai ragione e che mangi? allora si dopo che ho avuto il dv Bratte mistero o no? c'erano da fare? metti gola metti gola gola pari o gola che male gola di gola c'è tremo già adesso che sto all'allenamento figurati al torneo cosa faccio mamma mia che palle ma soltanto quando gioco così poi però mi fa questa cosa beh è normale non c'è la prestazione è capito speriamo bene al torneo dai non è che sto andando malissimo però comunque al torneo farò tre mila cagate ma torneo sicuramente no e poi ci sta vero la categoria ragazzi lo dite se ci sta nuco se ci sta attime se non ci sta mettere a e domani non lo so renato non lo so vediamo domani dopo la metto io che non si è messa e poi che parte il ma donna 3 mila collisioni di merda infatti mi ha proprio mi ha destabilitato tutto ma no ma a Ho mancato la cassa Vabbè quella lì non fa niente Sì infatti anche a me mi capita di prenderla Mi state recuperando Io ti sbattaccato al culo Adonno tu dimetti ansia Annaggia Alex Bella Innaggia questa mi è piaciuta Innaggia Alex Nella parte La collinezza Quella più alta nella curva sinistra Eh sì dai Poco prima della casa Lì che allargo troppo Grazie Nugo per avermi messo la categoria Ciao Dark Allora abbiamo saltato a ballo Allora Poi ma dite guarda quanto c'è una stagentra Ma è tanto importante Si vede E niente O devo cadere? Ok Sì 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 Allora Ballo Vai su ballo 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 Eccolo qua Ok 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 Vai amici Uiui Com'è andata? Si sente? Si si sente Si 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 Disattivate il microfono Come uno stu Stavo parlando a Stai parlando da solo praticamente Ok Sì Sono un imbecil Pfff Ci dissociamo I primi fail Vai su ballo Vai su ballo Vai su ballo Vai 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 Miki non mi copiere la skin È quello che hai fatto Troppe coco ci sono Troppe coco ci sono Che cosa Eh Comunque Sora Crescato L'hai finito Ah? L'hai pure platinato Sora Eh Altrimenti Crash 4 No Non l'ho finito ancora Io sono arrivato a Io sono molto vicino Guarda a te Io sono arrivato a Mancano Sette livelli Mancano Quanti platini hai preso? Eh 31 Io 20 Vabbè Ce la pu... È difficile però Mamma mia Sì Giungiamo sto verso la fine Cioè Da... Dai... Dai via di... Ragazzi Ci stanno le... Ci stanno le uova E per un altro ci stanno i bastoncini E io voglio i bastoncini Ci ho sbagliato all'inizio Nel torneo ho sbagliato all'inizio qua Però ti sei classificato dai Quarto Qualificato Non so come ho fatto a recuperare Importante Giusto Giusto Qui ho sbagliato Non ho saltato Perché non ho saltato? Ma ho sbagliato con le condizioni Mh... Io non... Comunque che quando ho fatto il torneo non mi sono allenato Intendo... Sulle piste da fare Non mi sono allenato Ho soltanto ripreso la mano... La mattina Che giuro non tocco... Eh si guarda... Mannaggia la odio questa pista Ah Ehm... Ma questa è un po' odio questa questione Mannaggia E se qui le collisioni le senti proprio dando Ehm... Cosa sto facendo? Lo so solo io Ah... Ah... Non ho endurato così Non mi ha saltato... Eh... Eh da primo a sesto così A sesto, anzi Mannaggia SORA io mi hai fatto sbondare un sacco troppe collisioni scusa non ti ho vista nemmeno sì mamma se telefono ho preso lo spigolo l'avete visto aspetta mamma vabbè meno male che non l'ho fatto durante il torneo questo scemenza e mi amare menti ultimo ma voglio che avrei fatto anche mio padre vabbè una roba un po' ma ti ho battuto saracca vabbè lo spazio i primi ammurio posto e tecnici io so io ho detto mi hanno mi ha preso il salto alla quinta tiro e al terzo giro sono dato auguro pagina l'arco cosa nel capitato io al quarto giro ho sbattuto controllo spigolo se c'è gli occhi per terra ma che è successo turbo non lo so ci sta ancora io c'ho una storia con questa skin quindi quindi ormai grazie con coco no no non con coco per un con una del delle ruote c'è con le ruote c'ho la storia dai la storia con le ruote in che senso ma è stato divertente ma era proprio passato è successo molto in passato la prossima assemblaggio il primo grand prix alla all'assemblaggio lega una cosa ma se batti tutti i tempi tutti i tempi si possono bloccare da prima dei calcomania del calte champion non lo so non penso quelle erano per i grand prix ci dovrebbe essere scritto tra gli obiettivi ci dovrebbe essere scritto tra gli obiettivi grazie ma turbo ci sta ancora vabbè fammi cambiare comba se no c'è veramente sempre quella cosa di Sara se volete sapere la storia di queste ruote c'è intendo della skin che sto usando posso pure di racconta è successo nel primo grand prix in pratica e prima di conoscervi tutti quanti quando ho preso proprio all online giocavo con uno youtuber che si chiamava alfi game in questa pista in immersione avevo messo queste ruote e lo youtuber che mi ha visto passare perché l'avevo soppassato mi ha detto basta un solo a salvatico che perde acqua e quella cosa mi faceva ridere poi in rocca cortex mi ha visto e ha detto confermo Sora perde acqua e addirittura c'ho ancora il video della live salvata ora lo adoro mi faceva morire quello youtube io usavo coco normale con le ruote con queste ruote qua vabbè saravate voi da ogni pomeriggio il mio soggetto all'assemblaggio detesto sta pista pure io piano piano imparerai ad amare il microfono mutato in pratica ecco perché ecco di che non ci sentivamo vabbè non vi siete persi non c'è voglio dire posso imparare una bomba ma perché non mi salti madonna questo pulsante punto esclamativo non ti tocca per lo sapevo che mi prendeva il pistone mi hanno schiacciato perché quanto detesto sta pista una ruota mi rubi pure le casse grazie prego non si possono usare ma perché imbrogliata raga non dovete usare il turbo mici ti osservo sa no dai perché non ha fatto le strane vabbè ragazzi a loro questa parte però che faccio il salto dove vai non mi piace mi piace in una parte soltanto in questa pista io non ho toccato la cosa la cosa io no sono ultimi la cosa io fai trovato la propria in un uomo è l'unica parte che mi piace fare il salto anche a me infatti lo faccio sempre anche se in realtà rallenti rallento no si rallenti non lo sapevo a me mi ha detto che rallenti trilogy è vero se ci sta la pedana che ti fa correre infatti tu la prima mi ha superato così vabbè mi piace fare mi è piaciuto farlo durante il torneo quindi l'ho fatto infatti io l'ho scoperto che si poteva fare grazie a te e me lo sono imparato a fare sì dal mio schermo alcuni cambiato la cazzo che l'ho scoperto proprio quando nel proprio nel torneo quindi persi controllo vedi però si perde il controllo a farlo davvero raggiungendo chi sta davanti anche se nel torne nel torneo karma si è allontanato di parecchio ho visto ho visto dal suo schermo poi che corne di mamma mia la terza volta la terza è quella buona no mi ha schiacciato ma ok mio dio so per sbagliare ok bravo turbo ho fatto sbagliato wow è stato più veloce l'ultimo giro anch'io tu stavi davanti a me quanto hai fatto l'ultimo giro io dico a turbo 47 e 21 io 47 e 14 wow sono stato più veloce 46 e 88 ho fatto 46 e 88 wow bello di quella è sicuro il giro più veloce che ho fatto per me era più lento ad ascoltare forse lei io venga io faccio l'ultima vabbè va bene micchi scusami che ti chiamo micchi ma faccio prima vabbè così mi chiamano tutti e comunque se vuoi domani o sabato diciamo crash 4 insieme se sei libero va bene se io avrò il tempo perché la mattina vabbè la mattina gioca a genshin ragazzi adesso vede con le tempeste nel torneo sono riuscito a fare a me non riesco a prenderla veloce io sono sicura che qua faccio di tutto al torneo è successo di tutto e di più sono caduto in 3000 mi pare anche che a lì si è caduta a me una cosa strana mi è capitata la prima volta che sono partito bene intendo che prendo la deravata e passo per la scorciatuglia in modo veloce la prima volta che mi capita e lo youtuber che mi ha detto che perdo acqua e online adesso allora cosa sta giocando vada 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 su colle ragazzi io scappo ci sentiamo vai ciao 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 alla prossima ciao ci è liberato un posto chi è che voleva giocare scusate un posto chi è che aveva chiesto io ho chiesto eh invita metti jackie metti jackie se vuoi entrare l'uomo a pezzi il nostro ruolo un brutto pezzi ok ora ho paura ora c'è jackie ho paura io sono tornato su ctr proprio al torneo grazie a noi grazie al torneo in pratica no in realtà prima o poi volevo tornarci quindi avevo già le mie idee per tornarci bene bene io pure sto approfittando grazie al torneo per allenarmi un po' draibin sei migliorato no sto facendo le piste del torneo ok oggi ho fatto uno diciotto e ventisette su baia oh mio però non si capisce come si fa a scendere di più di così cioè proprio io ho visto anche un po' con le le prove a tempo di noxide ma fa tipo una cosa c'è tipo quello speed ghost sul è crashato c'è chi fa lo speed ghost sul sul ponte capi che fa lui al primo giro aspetta esco colpato c'è uno speed ghost si vai ah sicuro rientri alla prossima ok poi ho abbassato un po' gola e all'assemblaggio però all'assemblaggio devo capire perché quel salto mega mi piace farlo ma secondo me rallenti però fai più riserve secondo me si per il turbo all'impatto fai più riserve per il turbo all'impatto ma rallenti quindi non so se conviene e poi non riesco bene a evitare i pistoni con quel salto enorme cioè mi destabilì il stato della staccionata non quando il stato della staccionata non so e qua la vedo male per le collisioni il segreto è saltare a sinistra e poi saltare subito no lo so come si fa soltanto è a volte tocca la staccionata oh mio dio ho fatto di nuovo la partenza buona perché c'è un padoo no lo sapevo lo sapevo mannaggia e vabbè turbo non mi fa recondizione Alex anche tu si guarda ah io ce l'ho fatta qui al torneo qui al torneo ho fatto una bella partenza proprio vicinissimo a karma io questa pista la odio Alex e ti devi da parte della staccionata madonna mi hai fatto mi hai fatto una cioè Alex sta qui lontano da meno si 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 eh vabbè niente ho provato a fare una cosa vabbè io mi fermo direi che questa gara non sa da fare sal Nuku prova a farla nella tranquillità giusto per farti vedere come si fa la staccionata vediamo se mi viene ma la gara ormai è persa la neve e poi un altro salto ti faccio vedere eh si perfetto Nuku ci provo perché non so se mi esce questa pista comunque secondo me io io mi farò superare perché ho fatto un errore così vedi ecco mi è uscito pure bene mannaggia mi è uscita pure veloce no vabbè dai no ma che io c'ho sbagliato adesso la staccionata cioè ma come si fa con le collisioni cioè destabilizzano un sacco qui cioè è impossibile io da prima a quarta e perché io c'ho sbagliato la staccionata sal Miki ti supero alla fine no no troppo tardi troppo tardi ma io svengo sempre in ritardo sono pure sette ma in un'ultima ah no ma quanti siamo scusate siamo sette ecco perché allora sono ultima siamo sette ecco bravare vediamo se mi viene mi viene no non mi è venuto qualcuno ok schifus di schifus in questa pista si lo so magari la rifacciamo schifus no no turbo è uscito perché settimo turbo come ha fatto come possibile perché ti sei fermato mannaggia turbo non ti fermare ma mannaggia che di per fai la vogliamo rifare è stato un delirio rifacciamola dai rifacciamola perché mi devo abituare alle collisioni su questa questo è il delirio io so che faccio l'ultima va bene turbo ma perché non carica carico per martedì eh però chi tu io ma martedì giochi con noi dai carico sì di giocare gioco però tanto ma tanto che che tu puoi passare mamma mia ma dove ma dove che dove che che passi io tengo paura di te di alex di goofy vabbè bauer non lo considero perché giustamente bauer primo anche di alex ho paura sì ho paura per il prossimo no alex tu mi fai fuori già lo so io sono il primo candidato a uscire fuori ma cazzo mai un altro se ne facciamo un altro organizziamo pure di pomeriggio però è un po' problematico di pomeriggio anche perché gabri lavora anche come si chiama è difficile però si potrebbe fare nel weekend il prossimo cioè capito nel weekend penso che il mio torneo lo passerò a seven ah lo vogliamo fare insieme perché io non sono bravo tanto possiamo castarlo così come fa seven come facciamo con seven che si fa vedere a tutti quanti lo darò direttamente a seven cioè per dire io ho organizzato tutto però lascio fare come lo volevi fare io non sono bravo a fare queste cose lo sai armi senza armi o non mi ricordo senza armi ovviamente ah senza armi ok io con armi eh ma crash perché ancora non mi ha caricato ah paletta ci sta se vuole però ha detto no siamo in otto ok fa niente paletta io ti ho detto chi è che c'era però mo esce turbo quindi se ti tieni pronto paletta entra alla prossima ciao ciao caro grazie per la compagnia ciao gabrile anche a te va bene vai poi una volta che abbiamo finito quelle del torneo se volete farne altre a me va benissimo ecco vortex oh no il nostro pignolissimo vortex rinazzo vortex ciao matteo ciao 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 matteo 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 vabbè deve entrare paletta ora usciamo io e michele allora ok ce la fate ma ci vuole solo giusto un po' di partite ciao matteo matteo babini ciao matteo grazie alex ciao 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 Madonna, io già faccio Grazie della spinta, Turbo Eh, ma mi state facendo Io non la so fare, sta pista, con le collisioni Come si fa? No, boh Non la so fare, ragazzi, in lobby da 8 Questa pista È la fine Questa qua è arrivata ultima al torneo Quando l'ho fatta io al torneo Non mi sono capitate collisioni Che Però la maggior parte da solo Eh, lo so, boh Ti sei trovato fortunato Può darsi Vabbè, proviamo Madonna, staccionata Il problema è se qualcuno sbaglia Alla staccionata Non so come ho evitato il masso Puoi trovare A sto masso da così fastidio Però l'ho evitato Il problema sai qual è? Che quando evit Quando sbagli il primo giro Già Cioè il secondo giro Tipo Non ti trovi più con la posizione del masso È vero Ah, meno male che è andato di là È sempre il terzo giro Sei attaccato Alla persona non ce la fai a saltare No, vabbè, no, ma che... Nooo Quindi turbo review ultimo Molto meglio Aspetta prima Però ho visto turbo cadere Ci sono sempre io Che posso sbagliare Ah, è mia uscita Ok Ho visto qualche prova a tempo Alex, che hai combinato? Che è successo? Ho preso il masso E poi nel terzo giro Che mi sono detto Mi sono... Mi ho preso la stagionata Oh, mitico Grazie mille Avevo disattivato l'audio di Narumi Cosa, 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 cosa? L'ho disattivato Avevo disattivato il tuo audio Ciao turbo Grazie per la compagnia Ciao turbo Ok, allora Tempio E' fiero E' vero, è vero È la prima volta È un onore Anche con Sora E' la prima volta che risentono Arumi dopo mesi E' vero, eh In parti non facevamo da una vita Ma è vero Vabbè, sono io che ho abbandonato CTL Mitico, non ci sta posto stasera Tanto tra 5 minuti di si stacco e io stacco Quindi che troppo tanto vado a mangiare Vabbè raga, io adesso sentiamo la prossima Ciao Michele Ciao Michele E' proprio te, però poi persone di minuti Ecco, una decina di minuti, venti Proprio massimo, massimo Ma... Va bene Faccio prima a chiamarlo Michi Ma Paletta è entrato? Credo che la lobby sia crashata No, no Perché è crashata? Spero che non portato sfiga No Ok, meno male Ci sta, ci sta, ci sta la lobby Tempio, tempio, tempio Tempio, tempio Vite, invite Oh mio Dio, punto esclamativo Non prendete Eh no, aspetta Prima ci dovrebbe entrare Paletta Passate tutti a sinistra Mi raccomando Ma ce l'ho io tra gli amici a Pal Paletta Pal Paletta Pal Paletta L'ho invitato io Aspettate Ma siamo in 1, 2, 4 Ci sta posto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Ok, sì, sì Vai, vieni Paletta Vieni, vieni Sì, Alex Anche io ho preso il masso Cioè, non la so fare questa pista Già di mio, no? Però Cioè Eh Le collisioni ti destabilizzano un sacco Forse perché una pista è nevata Non lo so Perché siamo tutti vicini In quella piccola scorciatuia Ma perché lì non c'è nevata Quindi posso invitare anche Porte Ah, invitalo, invitalo Io ci sono Ciao Bona nel casa stasera Proviamo i giochi del Plus Quindi se ce l'hai Sto accendendo Ciao Cosimo Ciao Squalo Haha Squalo stai venendo a vedere gli avversari Sei carico per martedì Squalo Squalo, squalo Madonna No, non l'hai rinnovato Bona Squalo, squalo 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 Aspettate al Vortex Intanto io sto sondando il terreno Contro Alex E contro Turbo Prima sta Ok, parlo eh Per me già chi vuole Tipo Bauer E poi vediamo Chi altro Chi altro devo fare Durante il riscaldamento Ho battuto Karma Vai Mitico Installalo Tanto è piccolissimo Ti devi allenare Squalo Allenati Cosimo Dai Non ho giocato malissimo Tranne questa pista Che Senza armi Sì Senza armi E niente punto esclamativo Tutti a sinistra Tutti a sinistra Ragazzi Non prendete la cassa Capito Alex Non prendere la cassa Alex Capito Betta Niente messi nel culo Ricevuto Lo dico pure io Perché Avrei Ok Niente L'ultimo Mi stacco Vai Ok Non fate vedere Vado a avere questioni di minuti Quindi questa qua Quando giochi Naro Io Marte Mi gioco Insieme ad Alex Turbo E Bauer E non mi ricordo Chi altro Grey Goofy Che non so se è forte Oh mio dio Sarà un Che sarà da ridere Guarda Grey Goofy è forte Proprio la gente forte là Che sarà da ridere Bauer So che è forte Eh Sì Bauer Perché se ti ricordi Quello torneo Se mi fanno tutte le piste Se vi ricordate Quel torneo a squadre Che avevo fatto Il primo torneo Che avevo creato Ma Eh Io ero in squadro Con Bauer Eravamo entrambi OP E' qui Quella della collezione Proprio la rossa di collo Sono caduta di sotto Questo è allenamento Tu Voi vi immaginate Come sto giocando adesso Voi Immaginatevi Come sto giocando adesso Poi nel torneo Ho sbagliato tutto Bufiamo Betto Bufiamo Ah io di bufate Secondo me ne prendo poca Di solito Io qui non so fare bene Il corner Perché poi siamo in blue fire Raggiungiamo Siamo parecchio veloci Blue fire Non perdere il blue fire Non lo perdere Non portare il figo Menomale che non l'ho perso Durante il torneo Non male Io questo torneo Non mi sono proprio allenato Se vado a me Volevo fare Cazzo Io mentre gareggiavo nel torneo Sentivo se per ogni volta Non riesco a guardare solo Senza Dark Hawk Eh niente Male Sagara Male male Sì ma io sto facendo le curve larghe Qui mi superano Oh siete andati Nooo Nooo Perciò è stato Dall'ultimo capo E infatti me è superato da fine Bravo Ah ciao a kanband Ho sbagliato proprio al terzo Quarto giro Fissi Vado a mangiare Buon appetito Buona scena Grazie a tutti E' un'altra cosa E' un'altra cosa Ci sentiremo tutti Wow un'altra cosa Io ho fatto lo stesso Certo Ma per ieri Dopo ti ferò un saluto Vabbè Eh? No mi Va bene Ok L'ultima è Fiera di Koala Fiera di Koala Fiera di Koala Fiera di Koala E' la mia pista Vai vai Voglio vedere A un attimo cambia il caos Che c'ho le ruote fosforescenti Fotoniche Che lanciano fulmini Che mi Che mi accetta Fotoniche Fotoniche Per cazzo le mie ruote Mi danno fastidio No sinceramente Il fatto che hai petto acqua Acqua? Fai acqua da tutte le parti Sì Sono le ruote Crepuscolo Quella è la Verdeacqua No non Il youtuber mi ha detto Così passa un solo selvatico Che perde acqua Ormai mi è rimasto impresso E ormai Sarà la mia skin definitiva Dato che qualcuno Mi ha rubato poco oscuro E' uscito con la paletta E' uscito? Trattato forse Non c'è Non mi ha più scritto Nella chat Vabbè tu nel caso avvia Poi se E' tornato però No ci sta Un secondo Ci sta Ci sta Ci sta Eh ma La sera non gioca Eh lo so Ha detto Di solito Nemmeno io gioco La sera Però Comunque paletta Voleva entrare nel party Ma non ci riesce La domenica Non ci sono Era tutto un altro torneo Se si faceva così però No io l'ho più numerose con armi Si possono fare anche cose diverse Cioè la cosa divertente Era quella di vedere tutti insieme Capito E alternare la visione di tutti quanti Quindi poi la modalità Può cambiare sempre Però sinceramente Senza armi è più bello Secondo me Dipende Dipende da cosa fai Da una parte si Di sicuro mi ha fatto venire Più voglia di allenarmi Perché comunque Con armi è molto a caso Quello che succede Specialmente da otto E' anche questo il problema Che poi Verdi tempo ad allenarti C'è l'ansia dopo questa azione Perché devi allenarti Eh esatto Infatti quello che ho fatto io Ma gli ha fatto male Loro ho fatto bene a non allenarmi E' infatti Hai vinto Beh infatti Non mi sono allenato Intendo in realtà Proprio è il giorno del torneo Proprio No Ma non Pure allenamento Addirittura E mi sono messo a giocare la mattina Per recuperare la mano Mi aspettavo di andare peggio E mi dice Sono andato bene Madonna Che volone L'ho fatta Fa un giro di Senza blu Sono con voi Non lo so Non l'ho presa La pedala del blu Chi è che ha lanciato un missile? No Non io Anche se sto davanti insieme alla carona Dai no Chi è che l'ha lanciato Ma Infamone Dovevo capire bene come si fa Madonna Oddio Malissimo Che questo devo salvarmela Soltanto per l'intento Da lui mi ha fatto perdere le riserve Scusami Non volevo No no Sto scherzando Soltanto perché è successo Soltanto perché ti ho fatto collisione Punto Non ti ho toccato Cioè non sono uscito Non ho toccato nessun muro Mi sospetto le riserve Per dire Tu non puoi passare Intanto non mi fighi Se volete Io vi faccio pure passare Nel caso Sto qui Soltanto per giocarti Sì però gioco Salta Quando ti dico Che devi saltare Qui non mi ricordo Che posizione ho fatto Vedo Attenzione Sorpasso No Questo passa Alla fine Lo so che Sto te Ratt Che mi volevi lanciare Quel missilone Me l'ha lanciato Che ha lanciato La sfetta Vabbè Vabbè Si possono lanciare A fine gara Nessuno lo vieto Credo O nel torneo è vietato Ragazzi Se era il torneo Io mi ero qualificata Stasera Ma sono sicura Che ti qualifichi Eh ma speriamo Ci provo Mello sicuro E passasse anche Mari Ma pure secondo me Passava Capito Anch'io ci speravo Ha buttato due cari Ha crashato Ha crashato Eccomi scusate Eh si Qual era Dove era Dove era crashata La penultima Tipo Se la stava giocando Con Alex Diciamo Peccato per lo spareggio Perché Secondo me Sei emozionata Sullo spareggio Perché per esempio Su pista turba Secondo me Lei va forte Ci sta pure un cazzo di spareggio Se fai pareggio Si E' perché avevano Entrambi Lo stesso punteggio In quarta posizione Quindi per forza C'è stato Lo spareggio Comunque se volete fare Qualche altra gara E abbiamo fatto semplicemente Tre piste Una scelta Io faccio La log Che devo andare Sono sette e mezzo Ok La faccio io Allora La faccio io Vai vai Ciao Grazie a me Ciao Vi riuscite a unire Ciao Come vecchi tempi Io si posso Paletta si è unito Unitevi voi Perché così Facciamo prima Come vecchi tempi Io mi posso unire Senza invito Si Gigi Scarica lo worms Così stasera Lo proviamo Oh Jess Ciao Scusate Stasera Ho fatto una cosa Proprio a caso Pomeridiana A caso Non è il mio orario Sono senza web Perché mia madre Passa dietro Ogni due minuti Che sta facendo Il cambio di Non lo so Sta cambiando Pannico Cose dall'armadio Ciao Wolfino Nuku Fai qualche Shotoutino Non vi vedo Aspetta A parte ci si può Unire Chi manca Arrivo Fortex Manca Fortex Vai Ecco E' vero Paletta Si dai Subworms Manca solo lui Siamo pieni Si Penso di si Cioè Mancano due posti Se qualcuno si vuole unire Però Ora siamo Tutti Vai Che vogliamo fare Che pista Per me va bene Quasi si Che ne so E' uscita E' per strada Vai per strada Per strada E vada Vai mitico Vai Che coperà Questo worms Non è Non è come i vecchi worms Cioè E' più il format Battle royale Nel senso che Non è a turni E' come E' 2D Si è 2D Ho visto Ma non l'ho ancora provato In realtà L'ho visto solo giocare Devo vedere com'è Stasera lo proviamo Se volete Worms non a turni Non è worms Eh infatti Infatti no Però mi pare che su PS2 Ce n'era uno worms in 3D Che io avevo L'ho giocato quello Però non era a turni Se non mi sbaglio O era a turni Boh Però era in 3D Capi Eri tu Che usavi il personaggio In terza persona Vieni Perta Arrba Eh? Alle 10 Ma con me stai parlando Ah no Vabbè Ok Dicevo Ah buona fortuna Grazie Vai Cosimo Mandamela Puoi mandarmela C'è il numero perfetto No C'è stato 13 Ah mi hai fatto collisione Jackie Eh ma Non faccio Di questa strada Da un troppo tempo No ma cos'era Oddio siamo tutti attaccati Infatti non lo faccio Non so più di tempo Oddio Non la so più fa sta pista Ho perso il controllo Concordo Aia Qua appena non ti alleni un po' Con questa Concordo Vabbè Quando voglio Dove mai la voglia Che manca Per me l'importante È che so giocare Uh Ma come l'ho fatta Non lo so Vediamo questo secondo giro Ah Ok Questo secondo giro Per me è stato perfetto A me non lo so Vediamo Ok È andato Considerando che non la faccio Da un mese Nesta pista Sono soddisfatta Vedo la classifica Un po' strana Appena qualcuno Taglia il traguardo E ha preso il fuoco Perfetto Quando qualcuno Taglia il traguardo Vedo la No Non ha derapato Non ha derapato Perché non ha derapato A me è partita la derapata Io ho sbagliato Sì 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 È un po' Devo capire bene Perché C'è Succede una cosa strana Ma quando qualcuno Taglia il traguardo Vai via Sora Ho la netta sensazione Che qualcuno Ah ti ho superato E ho preso il fuoco Porca Antipatico Non ho fatto niente E' appena detto Spostati Sora Io ho perso il blu C'è per dire Falla passare Ma Eh Ok Cos Karma Karma Sta in questa gara Ok Devo salvarla Forse Oui Sì Sì Io mi sono tuffato Nel baratro infinito Della disperazione Cazzo Sono stato Te l'hai fermato Perché ho deciso Di fare questa pista Avevo Levato il blu Prima del portale Ah Sai che non taglio Manco il traguardo Che bella cosa Eh questa pista Ci sta Magli di uscire Ci stanno Mi sono fatto esplodere Me l'hai mandata Cosimo La richiesta Ti accetto Se me l'hai mandata No Non me l'hai ancora mandata Mandamela Mandamela Questa bella clip La salvo La manderò a te Direttamente E mandamela Spero che Spero che le voci Stanno in mezzo Spero Intanto Cosimo Sta gufando Vortex Perché Cosa ho fatto Eh niente Nella mia chat Sta gufando Gufa Gufa bene Da lunedì Ho diventato odiato Da tutti No Dai Alla fine Hai fatto bene A mettere in evidenza Alcune cose Che c'erano Da dire In su Io pensavo che Molta gente Si era dimenticata Di me Che non giocavo Infatti Sei mancato per un sacco Sora Non devi farle Queste cose Stacca subito Eh ma Sono uscito Un sacco di giochi Ciao Vabbè vai Ciao Ciao Non ti preoccupare Ciao 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 Bene Ci sono le voci Vedi ti ha gufato E te ne sei andato Vedi questa è stata così Vai 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 Alla prossima Mi aspettavo che Si erano dimenticati Di me Invece sono Facciamoci 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 Cloaca va Ci sta Cloaca Vuoi bene oggi? Dai Non l'abbiamo fatta Ho detto Mi vuoi bene oggi Mi piace Ah Ti piace? E vai Jackie a te piace? Sì Ma a me piacciono tutte Ah vabbè allora È la mia pista preferita Di CTR Original Ma è anche adesso Intanto ho scritto anche nel gruppo mio Se qualcuno si vuole unire Mi è arrivato il tag Infatti Eh sì Dai paletta Ci si deve allenare Forse ripetizione Mi oddio Mi oddio con quel Forse ripetizione per fare Quella dannatissima Dove l'hai messo Perfettamente Ah no nel mio gruppo Nel mio gruppo Proprio del canale Narumi Se puoi entrare Sei benvenuto Ah no Avevi detto Se qualcuno si vuole unire Sì nel mio gruppo Ho scritto Sì ma Non stai già giocando con noi Scusa Eh ho capito un'altra cosa Scusami No 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 tranquillo Infatti Non stavo capendo Cosa stessi Dicendo Prendete Prenderete Melody O Memory Facciamo Un bel torneo Lò su Andare proprio Al ritmo di musica Anche se Ho visto Dovano aggiungere Il pulsante dell'invito Che non c'è Mi viene la pelle d'occa Soltanto a sentire La ossa di pista cloaca Oh mio dio Oddio non mi ricordo Ma cosa Che stai dicendo Mi stai deconcentrando Sola Non parlo da solo Non parlare Vedi Ok Sola cade Non mi aspettavo Come il passato Io dovevo mancare Questo è il karma Perché Mi hai fatto sbagliare Perché parli Sono abituato Scusa Sto giocando Per divertirmi Non Per spiareggiare Vabbè No Ho sbagliato Anch'io Per parlare E io no Stavolta No Ha preso anche Jackie Rischio Hai preso il rullo Ho perso il Per fuoco mi prendevo Aspetta che ti prendo Aspetta 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 Vieni qui Vieni qui Ti ho preso Non l'usare una bomba Ti lo do Non l'usare Aha No C'ho una bomba Non l'usare Io c'ho il missile C'ho il missile Nel caso E' attento Oddio no Ma in pista croaca So schivare I missile Eh vabbè Mica sempre Vabbè Mi chiamano Schivature di missile Questa pista Stavo a prendere il rullo Anche se Il gioco dice Che l'hai preso Però vabbè Ah vabbè Perché tu Il mio personaggio Da te Il gioco trollone Dai La mia presa di pizza preferita Ora accetto Cosimo Ora accetto L'avevo vista Ho abbandonato L'idea di diventare forte Ma no Come ti chiami What's your name Welcome Un tizio chiamato XDZZ108 Mi ha detto hi Codice fiscale Eh ma è quanto Ricky però Anche Ricky Un altro codice fiscale Ricky è un nome enorme E' un 5 Dove sta sto Ah ho letto male Scusate E' un 5 Non è un 8 Ciao Ventus Ah mitico Entra Entra Se vuoi giocare Entra Entra Ti faccio entrare Ti invito Vai 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 Accendi Cioè Sì mi serve Cioè nel senso Ci sta posto Se vuoi entrare C'è posto Bene per quelle Quei fatto su Union Cross Non posso spoilerare Non posso Non dire niente Sora Io devo ancora finire Il primo King of Hearts Certo certo E' successa una cosa Terribile Quindi Invitiamo a mitico Ci sei già a mitico O facciamo una gara E poi E poi Ti invito di nuovo Chi è Crasciato Palpaletta Ah paletta è crashato Non vedo più la classe Ci sta ci sta Ok ti invito Ma lo rinvidiamo anche a palpaletta Palpaletta E' ritornato Aspettiamo mitico Mi rimarrà in prezzo Facciamocene una Vediamo un po' Facciamoci laboratorio Va Oddio no Ti piace? Non ti piace? Sì siamo in party Sì siamo in party Mitico Ma non so come invitarti Su PS4 Non so più Riesci entrare? Nella lobby Bisogna aggiungerlo come membro Nel party Aspetta eh Mo vediamo Party Ma sono io diventata la padrona del party Mo Non era mio il party Mitico 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 Ma pure paletta Se vuole entrare nel party Mo lo invito anche a lui Va Pi 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 Val paletta Ecco qua Riesci entrare Ah sta eccedendo Ok vai Ti aspettiamo Ti sei allenato su Laboratorio Eccolo Paletta Eccoci qua Ma benvenuto Ciao Ma benvenuto Come va? Ti piace il laboratorio? Ok Oh Non puoi farmi questo Ma non ti preoccupare Dai ci stiamo allenando qua alla fine Meglio adesso che nel torneo Esatto Preferisco fare errori adesso Vabbè ma tu potevi continuarlo Perché ti sei poi ritirato? Non ti sentivi preparato? Diciamo No 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 Io potevo fare di meglio No Si era creata una situazione Che era un po' troppo confusionata Io per quanto mi riguarda Preferivo considerare valide le otto gare che erano state fatte con Style E quindi per meglio E quindi per meglio lì avevo perso Poi E vabbè ma visto che comunque poi alla fine Fortex ha fatto un po' Ha animato un po' la questione Quindi alla fine abbiamo rivisto un po' meglio Abbiamo deciso di applicare più restrittivamente il regolamento E quindi ci trovavamo in quella maniera lì per questo Ma sì ma non Però alla fine è meglio Sì sì appunto ok Va bene così Tra i due litiganti il terzo codo nel senso che io e Style Ormai non l'abbiamo preso male però va bene Ho capito ho capito Passare in maniera diretta Mi dico Arrivi alla prossima Ah va bene ok ok Allora partiamo Oh stiamo partito Mi ero distratto su Instagram Scusate Avevo trovato un webcam divertentissimo Boom L'ho messo nella storia Mi devo far salire una canzone in testa Così posso gareggiare bene No Mi farà che mi fai sbagliare Mi farà che mi fai sbagliare Va bene me lo terrò in testa Vabbè ci sta la musica del laboratorio Engine X Del trigger loss Grazie 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 No Oh, un nudge. No, pure io ho sbagliato. Non ti preoccupare. Non sei solo, non sei solo. Esso ora se ne va. No, non sei solo. Perché? Buonasera, mitico. Non ho saltato. Mio Dio, so per sbagliare. Mio Dio, bestemmio io. Sto in silenzio perché così vi lascio concentrare. Anche se la concentrazione mi sta arrivando sul serio. Mannaggia tutto. Perché? Niente, non riesco più a farlo quel saltino lì. Vabbè. Ci siamo. Esatto. Meglio così. Niente. Sì. il vuoto potevo giocare così al torneo vabbè oddio cosa va boh questa c'è questa come la devo clippare per tutti gli errori che ho fatto per cosa avete visto la nitro davanti mi cibo so butta da dentro l'ho fatta apposta l'ho presa io l'ho presa io l'ho presa io l'ho presa io l'ho dava fastidio no l'ho fatta apposta perché io quando vado al traguardo in genere mi butto anche io mi butto giù perché divertente buttarsi giù lì sì sì quindi ho visto la nitro è ricevuto pure una nitro questa fine esplosiva vi sono buttato buttando pure vabbè loro penso da te no io mi voglio buttare giù no forse ce l'avevo già mi dico ci sei si accetto accetto ok ma ti invito un attimo che amore vai mi dico pure io penso che poi vado a cena comunque si che mi penserò una host in mezzo così anticipa hai inviato un altro si ti ho invitato di nuovo ho messo baia va puoi partire subito no 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 dimmi te ok vai vai ti vedo ti vedo che stai arrivando meglio rimettere la musica qua se tolgo la musica mi deconcentro io invece sinceramente mi trovo di più senza musica ormai ditemi voi quando posso avviare vado quanto sei fashion molto apparisciante per ricordi mi sono rimesso l'arcocco e alla prossima dai si unisce bendicore ciao drasen si unisce bendicore all'ultima si unisce bendicore ciao teo ma non è il torneo ragazzi il torneo è martedì mi sto allenando grazie per il tifo ma è martedì il torneo mi sto allenando perché ho paura ho paura per il prossimo girone chi beccherò io ho paura sia muo che poi per il prossimo girone chi beccherò perché poi c'è se putacaso dovessi passare anche dopo sarà ancora più dura insomma sono tutti forti 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 ora sono tutti forti dopo saranno i fortissimi poi dopo i fortissimissimi pro quindi c'è io al massimo penso di superare forse questo giro io sto prendendo io mi aspetto sempre nell'eliminazione così passo no vai a crash dai per ricordi ho rimesso d'arco ho già perso si comincia bene infatti io questa pista non la sto giocando entendo soltanto per mantenere il yellow fire stavolta mi capita sbagliato non so ci fare più min per me questo gioco è diventato un ritmo di che sto cantando la canzone mentre gioco cantando no l'andarito no no la ossa di putback a crash no non ha senso no no non la sto cantando la sto andando la passo con la musica anche se non sta funzionando perché narumi si sta allontanando di più da me mi sono ti prego stessi che mi fai sbagliare sto per doppiare i miti ma scappa guarda che non ci arrivo per un pelo mannaggia 26 06 nel quarto e quinto giro stesso tempo 25 42 ho fatto bella 25 29 almeno il giro migliore ce l'ho io andiamo 25 e 55 il terzo giro è stato il mio il migliore è stato 25 e 35 a me addirittura ho fatto quarto non è possibile queste cose ragazzi vi saluto ciao alla prossima alla prossima mi ha fatto piacere che ti sei unito a noi un bacio allora ma a questo punto devi fare un'altra volta le piste del torneo per allenarmi insomma questa qua è andata bene dai subaia vai entra 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 mi entra ben di corti invito come non detto che significa che non c'è vediamo che dice a dopo a dopo allora frank tra poco devo andare pure io a c io non so non so se se ben di corti si unisce ah è andata via la corrente vabbè allora ci facciamo un pochino un allenamento intensivo su gola va stavolta che gola non mi sento sicurissima io non sto facendo allenamento però gioca forte gioca forte però perché io voglio allenarmi ebbè se il gioco forte sbaglio tutto ciao ricky gallo ricky il gallo na 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 mattina eh eh no non può venire a giocare c'è il fratello mi sa sì probabilmente io sto aspettando di cenare quindi poi ne fa tempo facciamo due garette ho fatto molto schifo su colle quindi casomai dopo colle ma pure ballo sinceramente la odio un po' c'è suo fratello che gioca nuku per questo oddio che è successo si era buggato l'ho visto anch'io un fulmine è stato oh ho sbagliato a fare l'ho visto pure vabbè niente è crashato mitico vabbè niente ho sbagliato tutto ho sbagliato tutto perché non so perché ma mi ha laggato boh mi ha laggato i comandi vabbè e baglie che attiva la palla eh vabbè non penso quanto me che non ho manco preso la come è possibile che mi sono allontanato ho sbagliato all'inizio aspetta che ti acchiappos ora va bene no ho sbagliato come non detto prima l'ho fatta meglio io mi sto domandando perché io mi aspettavo di andare guarda che ti rallenta la pedana se la prendi dipende come la prendi dipende come la prendi mo c'è un bot qua mi dico che è crashato beh se non mi da fastidio ok però se ci da fastidio gli altri che è mono mi sta cominciando a farmare il pollice ho fatto 3.000 errori mannaggia ma la volete togliere questa pedana togliete la pedana va bene la tolgo io ma chi l'ha presa? io stavo scivolando cosa? la pedana chi l'ha presa? no io l'ho mancata no nel senso chi è che l'ha attivata? ho colpito io ho lasciato un ricordino al traguardo è crashato mitico è niente io ho colpito io ho colpito il bot di mitico con la bomba non mi è piaciuta come l'ho giocato di pancare il bersaglio vuoi rientrare mitico? non ho capito il mitico riesce a rientrare? poi ci facciamo ci facciamo penso che sia crashato tu se sono crashati tutti penso che lui sia se torna indietro nel menu principale allora però senza di loro e allora sei crashato penso in quel caso capita a tutti sai mitico vuoi rientrare? ti rinvito? abbandonate il parco non lo vedo più mitico 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 e che palle però questa lista è infinita K-L-L-L-L-L-M mi-mi-mi-mi mitico eccolo qua ciao buon appetito Nuku vedi se riesci ad entrare mitico buon appetito e ci facciamo fiale va allora allora la via un attimo mitico e poi dopo ti unisci bene ciao drygore sempre bello ctr non muore mai sempre bello come stai drygore ti vuoi venire a noi per caso? ci sta posto siamo in pochi stasera adesso perché se ne sono andati tutti a mangiare tutti cenano presto mi dicono alle otto e mezza otto e mezza come fanno loro a cenare alle sette alle sette ah giochi a palla a volo io pure giocavo a palla a volo facevo il libero bello bello ma da quanto giochi? giocavo pure io ma dare solo i puntecci Kanband non sto facendo il torneo al momento non è un torneo questo è un allenamento l'ho scritta nel titolo che è un allenamento niente speed cost no anche se non ho pallida idea come si faccia mannaggia la miseria che collisione no e me la prende male quella shortcut pure io me la faccio male oh mio dio sto parlando al limite al limite puoi essere combattuta già mo guarda mo sbaglio non sbagliare non sbagliare fammi salire l'anze ti prego sbaglia sbaglia e poi sbaglio io in genere quando faccio così però vabbè 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 pure a me vabbè sto tranquillo è stato un gioco sì ma facciamo la derapata dall'altra parte cosa cambia cambia perché ho perso il limite e io e io ho fatto una derapata sbagliata però però noto con piacere vabbè io che hai sbagliato anche tu vabbè avevo sbagliato prima che sbagliassi tu quindi sì facciamo le curve larghe così si gioca beh infatti recuperami pure le faccio passate e io ma io ho visto una pozione lassù mo te la lascio io se vuoi te la lascio lasciate beh sono tra visibile ho visto che l'hai lasciata l'hai lasciata anche tu l'ho presa palpaleta l'ho visto quanto sta al momento il gioco ragazzi mi chiedono mi chiedono quanto sta però prendetelo su ps4 così ci giochiamo insieme scusate ho letto che sta al prezzo più basso 13 euro 13 ragazzi comprate subito ctrs 13 euro io l'ho pagato un sacco cioè quanto l'ho pagato vabbè il day one l'ho comprato io però dico cioè non è mai sceso sotto i 30 i 20 se sta a 13 se sta a 13 i compratelo subito e l'ho pagato 60 ma 30 40 in realtà l'ho preordinato ah tu preordinato ah beh pur io l'ho preordinato però non 60 io l'ho preordinato a di meno sicuramente l'ho preso la nitroshock 6 e 2 17 facciamoci facciamoci all'assemblaggio va stiamo rifacendo tutte le piste del torneo ecco mitico entra mi fai male con l'assemblaggio dove sta a 13 euro un'altra allora vuoi fare di nuovo gola no no vabbè facciamo all'assemblaggio chi l'acca sei entrato c'è una piste che non abbiamo fatto l'abbiamo fatto tempio vabbè dobbiamo fare l'assemblaggio ballo colle tempio e fiera ok fiera non se ne parla quindi facciamo all'assemblaggio e facciamo all'assemblaggio e dopo facciamo ballo che tanto amiamo tutti mi concede questo ballo io io non ho nessuna partita non riesci a entrare mi dico non riesci a entrare so farci sta la partita però fammi sapere perché io non ti vedo ok ne ho avviato un altro vediamo quest'altro vedi un po' sullo store forse sullo store sta 13 non fisico vedi un po' lo faccio comprare a tutti ah eccolo qua è arrivato Mitico vai wow bellissimo compratelo ragazzi sta a 13 euro sì decisamente è regalato è regalato Rimind sta a 18 euro sentite mi sa che 40 l'ho blocato forse è stata un'offerta lampo Mitico non riesci ad arrivare in lobby ecco ecco sta caricando ancora se non mi sbaglio anche Kingdom Part 3 rimane in sconto ah sì ma di poco io non ti vedo non vedo la cosetta vicino al tuo nome nemmeno io lo vedo è crashato no chiaramente no è crashato eh vabbè ma è che forse si connessione chi resta amicizia ricevuta aspetta odio le connessioni quando fa prova a riavviare il modem quando fa così ho cambiato pure il modem ho messo quello nuovo eh però a volte si è il gioco dici paletta e io non ce l'ho Tekken se no volentieri e allora avvio questa dai Mitico poi vedi se riesci a riavviare il modem vedi se riesci a riavviare il modem Mitico perché in quel caso secondo me poi riesci ad entrare non so se funziona non so se funziona a me è capitato ieri sera soltanto è capitato ma cosa che ho riavviato il modem perché c'era mal tempo no a me funziona sempre a me funziona sempre quando non riesco a entrare da qualcuno anche per natti incompatibili riavvio il modem e riesco sempre poi a entrare quasi sempre almeno però in genere è quello ma è strano ma a me in una notte avevo spento il ruolo perché pensavo che se andasse via la corrente perché doveva assai poi oggi proprio controllato non si cioè ho avuto problemi a connettermi con la playstation poi ho riconfigurato la connessione ora va di nuovo capito fortunatamente perfetto la prima la seconda era fatta l'ho sbagliato anch'io perfetto perfetto beh almeno non sono l'unico ma nel torneo vi ho tentato a prendere il pulsante qua si anche se l'hanno preso io io rischiavo di prenderlo nel torneo fortunatamente l'ha attivato Manu odio odio sta pista a me invece ora sta piacendo appena ho detto odio questa pista ho sbagliato non ha derappato è la pista che si vendica del tuo odio nei suoi confronti mi sono largata mannaggia a me ma c'è un motivo perché lo odio perché il sacred fire sta lontanissimo vabbè però una volta che l'hai preso è mantenerlo quello è il problema cioè basta che lo perdi una volta e per riprenderlo no sono stato schiacciato l'ho perso anch'io ma dai zitto io sono stato schiacciato quindi qui Grazie a tutti Comunque sai che non lo so se quel salto Conviene, quel salto gigante Conviene farlo o meno Secondo me no Cioè a me mi sembra che era lento Ci sta la pedana per andare veloce Quindi Però era figo fare il salto Sì però io lo sto facendo Ah ho premuto il quadrato Quanto è brutto È proprio triste Quando premi il quadrato per il sbaglio e ti togli il Quadrato non è manco un pulso Che stai usando parata di Kingdom Hearts Con me scusami che stai dicendo Quando fre... Per fare lo U-turn dico Ah ok Che stai dicendo? Giusto me l'ho dimenticato Ma che stai dicendo? Sora ma ci giochi a questo gioco oppure no? No pensavo che il punzante quadrato non esiste Invece lo sto usando Esiste Esiste Per fare lo U-turn Sì È giusto Scusatemi Non gioco a questo gioco da parecchio Eppure i puntanti li conosco Qui c'è una nuova cheat Cheat non... Sora non si ricorda i comandi Tipo colpisce come Xigbar Quella là... Quella là ti piace parecchio È divertente Ho perso il sacred Di nuovo Qui ho recuperato Qualcuno Ho mi doppiato Ma state facendo un'altra gara voi praticamente Stavo solo io? Mi avete lasciato proprio sola Io... Dopo che ho perso il sacred Sono tornato indietro Di prendere Mitico è tornato Eccomi Se ci credete Sì Robin Sto giocando da PS4 Sta 39 sullo store Io letteralmente quando ho perso il sacred Sono tornato indietro Martissimo Forse è risolto Dai scegli tu una pista Ho fatto apposta tornare indietro Scegli tu una pista Sora Qualunque Sora Non è il nome di una pista Però è qualunque Ballo allora Dovremmo sentire Siente? Sì sì ti sentiamo Mitico Ho detto ciao Boh ti rinvito Ho messo il router del telefono Va bene Robin Allenati Se ti va Entra nel gruppo Telegram Così ci possiamo sfidare Anche offline Allora Mitico Vediamo se riesce ad entrare Sì è entrato Ballo 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 Dove è ballo 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 Forse ci sarà il temporale Forse quello Eh sarà quello Vediamo se riesce ad entrare Se no Mitico Mi sa che non è cosa stasera Vabbè in caso facciata Tranquillo Vediamo un po' Caricamento E come? Eh ce l'ha fatta Dai Oddio ho visto Posso andare? Posso avviare? Per entrare nel pavimento Per entrare come faccio? Sì Fai il punto esclamativo social Per sapere i miei social Oppure punto esclamativo proprio Telegram Te lo faccio io E questi sono i link del canale Dove non scriviamo E del gruppo Dove invece siamo Un gruppetto Che gioca spesso anche offline Ma non solo a CTR Posso avviare un po' di tutto Posso avviare? Paletta Vado Io non l'avevo messo pronto Però vabbè Eh vabbè Noiti noiti Potremmo anche farlo in matchmaking E asfaltare un po' di gente Eh forse è lì Però è con armi poi Comunque a me piace usare le armi Eh vabbè ma poi escono sempre le stesse Tu dici poi esclusione Poi si va a esclusione Ah si può fare Non è male così Però basta che si facciano tutte Sì sì ci sta Si potrebbe fare Cioè capito Si potrebbe fare così Oppure che ognuno sceglie una pista Però Però capito Non devono scegliere la stessa pista Eh Sì però poi non si possono ripetere Oh Mannaggia Ballo io la odio E le odio tutte Hai sbagliato Non puoi Non puoi odiarle tutte E' finito che non so Brava Ti imparo a fare il frog Nooo Ho preso il muro Ho preso il muro Ho preso il muro fratelli Ho preso il muro fratelli Oddio che salt strano Pista punta Mannaggia la misera questa pista L'odio Fa meglio di Pista Oxide È la nuova È la nuova pista Oxide Pista Oxide Nooo Ballo della giungla Nooo Vedi Vedi Non lo dico io All'assemblaggio Nooo GTR Nooo Io sono soffiare le tiro Riku nooo Soffieremo sopra Vino Niente amici Devo allenare Su questo Mi è partita pure La derapata al contrario Come si nota la differenza Quando sono piste Che non mi alleno E le piste dove mi alleno C'hai capito? Eh sì Uh huh La differenza tra quelle due E le altre è un casino Sì Infatti Baia vado fortissimo Poi tutte le altre Molto così così Eh eh Mi hai lasciato la TNT Maledetto L'ho presa In realtà non era per te L'ho presa La metto A caso Ma buonasera Ma buonasera Grazie gamer Gli avete fatto Uno shotautino Aspettate Lo faccio io Perché sono senza mod Penso Aspettate Sto io in caso Però sto in garmo Vabbè Sta sagareggiando Il mio mod Ragazzi Mettete un cuoricino Anche a gold Al nostro gold No tranquillo Comunque gamer Non ti preoccupare Per lo spoilerino Ma si immaginava Che comunque Lei tornasse Per fortuna Non ho letto niente Ho visto solo Che gli dava Una specie di stella In mano E poi basta Tranquillo È appena tornato Nuku Grande Nuku Vai Kanban Kanban Alla prossima Ciao Ciao Chaps Ciao Chaps E ciao A chi è fa Tutti con scusa 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 Che carini Che siete Non vi preoccupate Non fa niente Volevo passare a salutarlo E vado a passare Proprio quando Quando giustamente Fa cose che mi fanno Spoiler Su Kingdom Hearts Che pass Spoiler Io Pannatelo Sono alla fine del gioco E non ho finito O tornei Che significa Ci sono i tornei Su Kingdom Hearts Ah i tornei I tornei di Hercules Tipo La prossima pista Allora Gole l'abbiamo fatto Baia fatto Ballo fatto Fiale fatta L'assemblaggio fatto Colle Tempi e fiera Facciamoci colle È bella fiera La fiera forse E dopo facciamo anche Ecco Sì Colle non l'abbiamo fatta No Ok La vista è odiosa Il tornei Ci sta Melody on Memory Che ha bisogno Di un invito Tra amici Eh ci provo Nuku Uè Bernit Ti vuoi unire? Tra un pochino Però poi stacco Eh Bendicor Bendicor Pure Bendicor C'è Bendicor Ok Si scende Tu una posizione Bendy Sì Un po' basso Boo Ah 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 perché non sei Non puoi giocare Ok ok Perché non lo sentite Nuku? Voi non lo sentite Sì Bernit Eh vabbè Era destino No Eh sono caduta Sì mi sa che Mi sa che Sora è crashato Sta fermo Ecco Ho caduto giù Sì qua sta a fare brutto tempo Sì Questa non pende Sora è morto E' fermo Sì Ah ah L'ho presa Con te pure Che mi hai fatto collisione Ah Ho preso pure Sora Ho preso E' storico quando mare Però vedai cazzo Si scorcia Dove io hanno da fare Vai mi dico A parare quella col paletto Uh bellissimo così Sora si è spostato Sora si è spostato Ma che è successo a Sora? L'ha preso in pieno colpuno Ah l'ho spostato io Ok Che ne so Mica ci sto facendo caso E io sto a fa schifo ormai Distrauribile Gli ho lasciato pure una tiene teaser Ah buono Niente L'ho proprio preso in pieno Il Sai che sono Ho preso il masso Quindi potresti recuperare Volevo provare a fare una cosa strana Tutta storta Vai io prendi la scorciatoia Dai recuperami Recuperami Aspetta vediamo se becco Sora Da qui Aspetta fermi fermi Vediamo se becco Sora Pegliamo bene la mira Laga l'ho preso L'ho preso bene proprio Clippate ragazzi Fate una clip Ciao banana Ciao gamer Eh gamer Gia ti avevo salutato Oh le devo saltare Staccionata La prima o la seconda Eh Ma quella più a sinistra Quella più a sinistra Ah ok La prima Oh è entrato Robin Grazie per essere entrato Addirittura Sfida completata Allora Vuoi banana entrare a giocare con noi? Allora c'è anche Bernit che si deve unire a noi Sì Sì così lo batto Sono pronto Vai bandicore Bravissimo banana Comunque sto con Con la La connessione a dati Perché wifi è morto Le banane Ah vabbè Spero che non laggerai No siamo su PS4 Bernit Possibile va bene Bel gioco Ciao gigino dei panini Ok entra Bernit Sapete che però Non lo so più se la faccio La live dopo A questo punto Alla fine ho fatto due ore Però volevo provare i giochi Del Del Playstation Plus Magari li possiamo provare domani Con il sub day Allora Incominciamo a invitare un attimino Bernit Che è qui E poi il nostro Bendicore Bendicore Ma non ti vedo Vai vai Ci sono Mi senti Sì ti sento Ma non ti vedo qui Sto entrando Sì nel caso non così Perché Cioè stasera Sta pure la partita Allora baby Oggi è giovedì Giovedì a te tu Sì vai aggiungimi Banana Ma non ti ho già Tra gli amici Scusate Banana se ti va Entra nel mio gruppo Telegram Sì ti sentiamo Bernit Comunque Banana Entra nel gruppo Perché noi A volte giochiamo Anche offline Non lo scrivo nel gruppo Del torneo Se ti va di unirti a noi Lo scrivo lì Nel mio gruppetto Però non siamo su Discord adesso Ora siamo su PS4 Allora Bendicore si è unito E in manca Bernit Facciamoci Tempio di Tiny Va E dopo ti voglio sfidare Su Su Gola Bendicore E su Di nuovo su Come si chiama Baia Perché mi devo Dove cacchio E basta che facciamo Il torneo Perché dopo Dopo domani Ah sì sì A me va bene Facciamo quelle del torneo Se ti devi allenare Stavo facendo quelle Da tre ore Ma con più di Tiny Va bene Vai 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 E carico Bernit Vai Tra l'altro Tra l'altro Attenti alla cassa Eh Mitico Attenti alla cassa Diciamo che lo facevi a me Alvertenzo Me l'ha inviata Alla richiesta No No la vedo ancora Quindi poi Quando la mando L'unica cosa Ragazzi Per favore Ragazzi Per favore Ragazzi Se prendete la cassa Ditelo E andiamo a destra Però non prendetela E poi seconda cosa Per favore Non parlate troppo Durante la gara Perché ci deconcentriamo Ma tipo Ieri mi è uscito Lo speed costo Su del ponte Involontariamente A chi Baia A te Anche a me Capita a volte Però Diciamo che Non si dovrebbe fare Eh Vabbè Non so nemmeno come Diciamo che si vede Quando lo sai fare Lo fai intenzionalmente Ecco Quindi Se poi lo prendi Perdi il controllo E alla fine Hai perso tempo Più che guadagnato Alla fine Valuteremo Questa cosa Cazzo Alla fine Perdi tempo Sì Su Saltate l'intro Ragazzi Chi è A Panna Tengib Dicano Madonna che va a freddo Oddio stavo cadendo No Vabbè No Mi è uscito il boccino d'oro No perché Questo è true Non lo perdo io Oh stava avanti a bell Vai via Infatti voi ero l'imperdonato di roba lasciamo stare Non puoi Il torneo voglio riavviare Oddio non mi è andato nella No fuoco di merda No No Ho sbagliato Vedete che poi quando parlo sbaglio Vabbè è persa No mi si guarda dalla fine Comunque che mi sono perso raga Ti sei perso me che ti bullizzavo su colle No Sì ho mandato la clip però Scusatemi che ero assente senza No tranquillo 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 Abbiamo capito che sei riassentato per qualche motivo Meno sono riuscito a tornare per questa gara Sì grazie gioco che non salto No Ho fatto una derapata al contrario No Mitico Ti sto per doppiare Mannaggia mitico Mi fai credere che sto raggiungendo qualcuno Invece sei tu Vabbè almeno Sto caduta Eh però mi stavo all'ottava il quinto posto Grazie banana Ok Quindi manca solo fiera di koala E poi rifacciamo il giro così Il nostro bendico si allena Non ho fatto niente di male Perché mi bullizzavo Se mi alleno Comunque ho sbagliato un sacco Perché stavo raggiungendo palpaletta Stavo superando tutti Solo che poi ogni volta Non mi saltava Quindi non lo so Però comunque sì Si può fare Dei secondi No ancora non staccato Stacco alle 9 9 qualcosa Qua Vabbè ad alto volume proprio A che ora inizia A che ora inizia la partita E alle 9 stacco Allora Ragazzi allora io alle 9 stacco Perché inizia la partita E mio fratello fa bordello Quindi a questo punto La live salta per forza Perché se la deve vedere in tv Più tardi dico Dopo Cioè volevo farne una Dopo Però A questo punto ho prolungato questa Col senno di poi Non mi pento di aver prolungato Ok Rieccoci 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 Ok Allora Ditemi un poco Di caccia Voi che avete guardato Il girone F A parte qua Psi Chi ho di imbattibile Nel mio girone F Che poi non li conosco Non lo so Ma non mi ricordo Chi sono nel tuo Diveni se posso avviare Aspetta che ti dico Non aspetta che ti dico Prendi un attimo C'è Dravil C'è Dravil C'è Dravil che vuole unirsi No Ah ok Posso avviare la partita Sì sì Avvio Avvio Ah ok Vado Voglio trovare Volevo Volevo Aspetta se sono Un'immagine Un po' sul tutto Oh no Cioè io Pure io Risco seriamente Di non passare Cioè ci sono troppi No vabbè Ma per me non è un problema Alla fine Nel senso però Nel senso Justo per Per vedere Se un genio Diciamo E forse Gli posso stare Piano piano dietro Per dirti Perché comunque Diciamo che ci stiamo Però se c'è livello Proprio forte Non ci possiamo fare niente E mi hanno messo tutti i pro Nel mio girone Non che Non che sia Piano piano ci puoi arrivare Dietro Infatti ci stavo quasi arrivando Ma chi A te A me dietro ci puoi arrivare Si Si posso arrivare Piano 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 Se no ci bacio Oh madonna Ora ti sento Spirato E zitto Non mi raggiungerai mai Ecco sono qui Penso che Narumi già mi ha raggiunto Che non ci gioco Si Cazzo fatta Vabbè Oddio Collisioni Si è alzato Ho fatto una cosa assurda Vabbè Ok Vediamo di recuperare Sono prima Però Vabbè Ho perso il fire Quindi Ok Raga Però Quando fate le collisioni Voi come fate A non perdere il controllo totale Del Cioè Si si fa proprio Un'altra partita Si fa Non lo so nemmeno io Sono sapessimo Mamma mia Che pure io Ho sbagliato Ho fatto una clip Della Dalla di ieri Stavamo facendo All'assemblaggio E sono salito In testa violetta Nella scorsatoia All'assemblaggio Ma che Salto E poi sei caduto Che è successo dopo Sì per forza Non potevo Ebbene Dicormi laggiù Vuol dire che ho perso Siamo una certa parte Che non so fare Dove la fate Quale La parte Io la parte subito dopo il salto Mi destabilizza un sacco Non questa parte Che stiamo facendo ora Appena inizi il giro Dopo il grande salto Qua faccio il mega taglione Qua lo faccio pure io Intendo qui Dove saltare Con il volt New turn Con il string Ah Usare lo new turn Sì Dove dove Aspetta Dov'è che usi lo new turn No Se ne va via la luce di nuovo No Vabbè tanto sei dal cellulare No No Ah sei dai Non sei Sei dai wifi Perché c'è il boccino d'oro No È tutto con la Connessione Quindi che cosa te ne frega Che sta la linea Che instabil No La corrente Dico Vabbè ma che cosa te ne frega Il cellulare Ah vabbè per la play Ok Non avevo considerato La play Che Non è fatta d'aria Giusto È una cosa fisica Che colleghi alla tv Non mi fa ridere Che non mi Mi ne concedi Entro Posso lasciarvi una boccetta Tieni Un po' in aria Alle 21 C'è male di contro a Monica Sono morendo Quattro Che la mia logica è scritta È quello che ho mitico Molto E quindi noi Facciamo il giro Iniziamo da Gola O con blu a manetta Ancora Sono anche un pochino stanca Adesso sto facendo Ancora più errori Del solito Però Dai Bendicor devi passare Perché io ti voglio sfidare Se passiamo entrambi Se passiamo entrambi Se passiamo entrambi Ma chi Bendicor di sicuro Passa Bendicor passa Ma non è vero Ma hai visto il nostro girone Perché ci sei anche tu Io non ci sono Bernit E già che c'è bernit E già che c'è bernit Hai vinto Vedi È un pro È un pro È proissimo Allora Paletta è scrasciato Vabbè Bendicor Vabbè Ah ok Va bene Grazie per le partite Paletta Alla prossima Dove sta la pista La pista gola Eccola qua Andiamo Bendicor mi batte E che vuoi dire Grazie Vabbè Sono tutti forti Praticamente Io mi vedo già eliminato Vabbè ma eliminato sicuramente Sai come Non volevo fare l'ultimo Sì Sai come Tipo mi mettevo Mitico Oppure Come si chiama Quello dell'altra volta Che non mi dimentico Vedi che Stava avanti Questa pista Era mitico Se non sbaglio Un'altra volta Sì Che ha giocato per il primo Sì Era proprio mitico Prima vicino Non ho fatto io Sì sì Era Ciao Era lui Contro chi gioca il Napoli Raga Contro Napoli Ora Ora ho notato il video Sul gruppo Con il tag Non lo vedo Perché Perché immagino già Quindi Contro la Z Dalkmar Olandese Ho visto Nuvolo Tonto Dal mio gruppo Non deve scriverle queste cose Nel gruppo Laro può scrivere Naro ti vede la partita No scherzo Non me l'avete Tanto era il mio bot Che non ero qui io a subire Madonna le quali sono le persone che mi hanno preso Le persone che mi hanno preso Sì Io sto facendo le scivolate Sul viaggio Perché Le ricco Eh lo sapevo che è vero No perché È riuscito sempre Queste piste Fatti a lei Fai lo scherzo Tutte volte L'ho detto Pure nel gruppo Naro se vi faccio cadere il joystick Mentre Mi devi spiegare come ho fatto Perché non lo so nemmeno io Ti vorrei tirare una bomba Oddio Però non mi hai fatto cadere il joystick Mentre ero via Cioè se qualcuno poteva Triffare quella cosa Peccato che non si vede Però Era bellissimo Non so come ho fatto E cosa ho fatto E poi capire Prova se stai Mannaggia Hai avuto la mia stessa idea Ma siamo uno in meno? Sì Paletta se n'è andata Ah ok Ecco Cioè come mai sono quarto E non quinto Non farmi vivere No Soro Mi hai fatto perdere l'equilibrio Ma come ho parlato proprio Non è vero Ma che schifo di pista Però Dai No vabbè Come ho fatto Non è vero Che c'è ancora che a fare Maledetto 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 Sora Non ho detto niente No Non è questo Sora E che Praticamente Ti sono caduta in testa E ho perso Il ritmo della partita Sì ma è normale che io Tocca il mire invisibile da sopra E non accanto Ma vabbè Si è riavvicinato Si ha preso la tassa Io io L'ho detto prima Non mi avete sentito Vabbè si può prendere Grazie che l'avete detto Così ho dovuto evitare Eh l'ho detto prima Adesso la ripresa Che ho dovuto abbassare Dai però Mi piacciono le cose volanti Oddio La TNT così però no La TNT così però no Era una vidro A me mi piacciono le cose volanti Comunque secondo me Benvenuto Andrea CV Ma sei per caso uno che gioca alle clan war di CTR Per questo c'è il CVVC Si ha messo la Vabbè Vabbè alla fine Si ha messo il nitro lì Ah ci stanno Gambero e Gabri Dai dai venite Il valico che ha messo il nitro lì Voglio sapere chi è ora Il nitro? Arrivano anche loro raga Il team slam L'antro Quello che Allora invitiamo Gambero 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 Allora Carlo Gabrimino E Gambero Vai Non è perché sei scarso adesso Allora sarai scarso per sempre No ma comunque guarda Mi dico Quanti siamo ragazzi? Ragazzi ci sono tre posti E non è difficile Raga 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 Ci sono tre posti Ci sono Ci sono tre posti Ok Le piste purtroppo non le so bene tutte a memoria Perché ci sono Quelli di microcaggio Ma lo facciamo in ordine Dopo Ok Ok Perfetto Carlo Siamo uno due tre quattro cinque Non ci credo veramente No Comunque Di denaro dicevo Anche Fabio Finch Fisio buff E K WI UII ragazzi Ma ciao Ma come state Ma da quanto tempo Ma buona Serbia Carlo perché non stai facendo più il VR Tu VR Su Abbandonate Uno due tre quattro cinque Manca solo Carlo Vergogna C'è un ultimo posto per te Se vuoi entrare Itemless per le gare del torneo Vuoi unirti Ma perché 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 mi ciocca così Perché mi ciocca così Io sono anche in live Attento Ah scusa Però tranquillo No tranquillo Posso partire Posso partire Posso partire Posso partire Sì Itemless Raga Raga Ovviamente Tranquilli Io posso vedere Chi ha lasciato le cose Puoi partire Per me può partire Parto allora Chi ha lasciato una bella nita Chi è Carlo Vendosa E' il mito dell'altro torneo Che abbiamo fatto Quello che buttava sempre le boccette Ragazzi Quello che voleva suonare il clacson Esatto Quello che voleva premere il clacson Addirittura una nitro Mi hai lasciato Naro Mentre ero fermo Sì hai visto? E ci sei finito dentro Tutti l'anni Ho visto la mia clip Non puoi nascondermi le cose Raga avete visto come mi ciocca il gioco? Come ti ciocca il gioco? L'ho mangiato nel gruppo L'ho mangiato nel gruppo Ti sento molto male Ah si è buggato Anche a me è capitato una volta Bellissimo Sto balbettando Non balbettare Ti si sente molto male tra l'altro Ora mi senti? Sì Ti sembra Capito Sembri Non lo so Cosa stai parlando? Scusa Sembri che stai in radio Hai un microfono di merda Non lo volevo dire Eh ma la verità L'abbiamo pensato tutti Ragazzi zitti però durante la gara E ha concentrati Concentrati ragazzi Concentrati E infatti Gabriel è crashato Mi raccomando Mi raccomando Eh cosa è crashato? Tutto bt Boh Lo sapete si perché sto Sto ritornando indietro E parole du gatto Perché ho aperto le riserve Nonostante la beneficenza Questo gioco è magico Bellino me la ricordo più La canzone Quella dei buio pesto Ma ragazzi Stai giocando? Sì Eh io no Sono crashato L'abbiamo detto che sei crashato Eh sì No perché non mi ha fatto la deravata di Ciao 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 Ragà ragà Dai Ma ragà Dicci veramente Ma non conoscere seate mai Gabri Ciao La sento eh Sto cominciando a odiare Gabri Volevo ricordarmi un attimo la canzone Io intanto metto pressione Però non si sa mai Io non sto giocando per vincere Io ho appena toccato il numero fratelli Io mi sento forte Sto per doppiare mitico Mi son fermato però Ma Mi hai buttato una bomba 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 Mi dico Eh lo vedo pure io Leva di Mi dico Passa passa Sai che ti è fermato nel muro Scusi Ti ha preso il muro Hai preso un muro fra lì C'è che sta facendo con le bombe là dietro Ma l'ho ripreso Eh nessuno ferma Lo colpì Ma Ma Mamma mia Sono quarto Ma Non avevo intenzione di gareggiare No Adesso non si può cantare con la canzone in live Esatto Esatto Buonasera Muramasa Fate uno shout out anche a Muramasa ragazzi E ciao Gilda Anche a te Come stai Ehi Last Gamer Da quanto tempo che non ti becco Come stai Ma perché stai andando indietro Raga però se no Se non dovete fare serie Cioè ci mettiamo da soli Cioè dobbiamo fare una lobby seria Vedete la gara la sera Eh però giocate se anche avete fatto gare Scusa no a me Seriamente Noi comunque ci stiamo tra virgolette allenati Eh è un allenamento Però ci stiamo allenando Mi potete invitare di nuovo per favore Sì 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 Gabri ti invito Ti invito Non ti preoccupare Gilda Quando riesci a passare Mi fa sempre piacere Che mi dici Muramasa come stai Ci giochi a CTR Ho un torneo martedì Cioè io gioco martedì Il torneo è già cominciato Però mi sto allenando Mi sto allenando Ciao caro Giochi a CTR Se no devi giocare Se non giochi Compralo Sto facendo convertire tutti a CTR Anche Mitico non ci giocava tanto prima Allora E anche Bernit tra l'altro No ma guarda che comunque No seriamente parlando Pure Mitico sto migliorando Alan ha migliorato un sacco G G G G G Gabri Mino Eccoti qua G G G G G G G G FIX La prossima è Ballo No maledicina Ballo del Budello No sono uscito Ma fate a turni raga Mi chiamo a Gambero Eh no ho fatto una cazzata No sono cresciata di nuovo Solo io non mi sono convertito Ha detto Frank Aspetta Naru che sono cresciato di nuovo Sì sì tranquillo Ti rinvito Gabri dove è Gabri Ti voglio giocare Ti devi allenare Gabri Devi passare il turno Devi passare il turno Oh mi spiace che non ti invita la live Però lì ti invita la divina Passo il turco Dai dai Io ho iniziato ieri Ad allenarmi diciamo E indovina Gabri Hai già superato in qualche tempo? No diciamo Devo dirti il tempo di Baia Ah è vero Devo guardare Non te lo dico Hai fatto 1,17? No no Ho fatto 1,18 e 27 Minchia Ero 1,18 e 44 Sono riuscito a scendere Però è difficile scendere oltre 1,18 e 9,16 È difficile di oltre Sei diventato Tite Poi sono migliorata un poco pure su gola Però purtroppo Quando poi faccio le gare Non in proprio a tempo Cioè le collisioni Mi fanno proprio Destabilizzare un sacco La Le collisioni Mi do di qualificare Speriamo Speriamo che mi qualifici Eh vabbè vediamo Chi ha scelto le piste? Gabri? Come pure Bambi Non sto giro Sì Rigoni Che piste di merda Gabri Dai Mi è partita la terapata al contrario Ah che bello Non prendere neanche il stalker 3-4 collisioni Probabilmente E guarda Carlo Verdose Fammi consolare Vieni qua Dai Vieni qua Dai C'era un cambero nell'acqua C'era un cambero nell'acqua Ecco Un cambero di fiume però Oh ma non riesco più a farlo aiutero Maledissimo Raga Zitti Ecco Gabri non c'è Andato via Raga ma non posso giocare così Come mi alleno così Anche in questo torneo la casa tua Mi fa male vita No ho perso il sacramento No no Dai però ma vedi Raga Mi alleno da sola domani Sto facendo regare Ma perché Io non capisco perché stasera mi partono le terapate al contrario Niente Io non riesco a giocare raga Mi fa male il dito Il pollicione Come pensi di fare il torneo la sua Ma io non lo so manco perché mi sono Iscrivito Perché Ragazzi io perdo il controllo Così Annaggia l'odio ballo Dopo domani mi alleno solo su ballo Questo lo devo fare pulito perché ballo mi sta facendo Un terzo posto onesto Per quei due davanti Niente ma ho superato gambara incredibile Ma come incredibile Ma come credibile Ciao Ma buonasera Stasera mi hai beccato senza web Fate uno shutout a Waven raga Come stai caro Dica mi fa male il dito Dicendo che devi vincere il torneo E buonasera a te lord La prossima pista E fiale di ruraga Fiale di rur Fiale di collisione Fiale di rur Fiale di rum Fiale di rum Ho finito Ho finito il filufero No ancora non li ho provati Ho finito il filufero Minchia me ne è arrivata subito un'altra bottiglia Li provo domani penso Sì sì domani casomai Sì 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 domani Ok allora voi lo scarico Facciamo il sub dei domani a questo punto Minchia mi piace da matti Me l'ha regalata una bottiglia La tiglia Fabio Finchia è migliorato E' rimasto come il primo torneo Che cosa stai bevendo Filufero Grappino Slam dovevi dire Non Eh ma il filufero è Hai rischiato di fargli venire un infarto a cage Il filufero è la grappa sarda Allora che cosa avevo detto Che pista Ah fiale Dicevi mitico mi hai chiamato No non ero io Chi è che mi sta chiamando Ero io ero io Dite Dittemi che non vi sei Zitti tu un attimo Hai rischiato l'infarto a cage Perché stavo dicendo male Slam Eh la fiale di Roma No perché è scritto Orange Passion Eh vabbè ma è la battuta della pubblicità Yeah E allora mettiamo Orange Passion va bene Mamma mia E la battuta Campari no? Stava morendo cage Dai sono battute delle pubblicità Ma come siete pignoni Stava morendo Deve essere un'opera No Weven devi ritornare su CTR E' un'aranciata Ciao Moso Dove c'è Slam c'è casa Come hai fatto con me Ragazzi mi sono persa sta cosa delle Slam Dalla live scorsa Cercando di capire che cos'è E' una bevanda Ora domenica Domenica ve la facciamo vedere Domenica lo scoprirai Domenica lo scoprirai Sarebbe la Pepsi dell'aranciata Comunque Weven Aspetta ragazzi Fatemi un attimo parlare con Weven Weven comunque mi sto allenando per un torneo Che martedì gioco Io Però il torneo è già iniziato Quindi se Capiterai una di queste sere Vedrai come corrono i veri pro Aia Dei veri prosciutti No pro 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 Dai Coco Fatti sentire su tutto il tumb Mi raccomando Oh ma che bello Quando mi fa sta cagata Nooo Ma ecco le Bellini di collisioni E non dare colpa Le collisioni No che è così No perché ho toccato il muro Ma ho toccato il muro dai No vabbè non mi qualifico Zitto bendi Ti qualifichi Ma fai uno schifo Ste pinte Non lo so girarle Che pusti Portigione Ma sei pazza Fusti vera Io mi diverto Su fiare di Roma Che volete Ho fatto quattro collisioni Ho fatto in due giri e mezzo Che cos'è mi dico Che mi sta davanti Questa cosa non è bello Eh perché come si è allenato Un casino Ma lui mi ha aiutato anche a battere vento Ahah avete sbagliato Anche io ho preso il muro fratellino E Carlo però non molla Non molla Carlo Ha perso il fire Carlo Ma non ho Ma non ho preso il stack Ma 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 non devi fare lo speed ghost Però Chi è che fa lo speed ghost Cioè non lo fate Non lo fate Dico non lo fate Dico non lo fate Ah ok Mi era sembrato che l'avessi fatto Per un attimo Però Mi sono completamente arreso Quindi ci ho parto tutto La porto a casa Vale Ormai Comando Goofog Stavo per sbagliare Quanto mi piaccio Le cose volano Che succede Eeeh Madonna santa Però sono davanti a Sora E sono contento Cioè ma senza Piene collisioni Signori Che brava Che brava Io non stavo giocando seriamente Vabbè Sora Non puoi dire sempre questo Gioca seriamente Basta Cioè se no basta Le stai perdendo tutte Non sono la stanza normale Eeeh Se pensate che mi avete battuto Ma in realtà Grazie Crash Quando sbaglio Smetto di Di giocare bene E non si fa invece La gara si può sempre recuperare Quando sbaglio All'assemblaggio ragazzi La prossima E' capito male E' capito male Io di solito Non sono come gli altri Che si firma completamente Gioco ma non gioco più seriamente E no io invece Do ancora di più Quando sbaglio E infatti spesso Voi con quanto è forte Banana Boy Il problema è di dare seriamente Indicare di più a sbagliare Per mente No è vero Ragazzi A me succede spesso Quindi L'ho fatto nel torneo poi Ho sbagliato Ho iniziato a giocare normalmente Ho vinto Cioè è arrivato quarto Conoscete Banana Boy 1? Sì Banana Boy è il nostro amico banana Perché? Che è successo? Di nuovo Perché voglio sapere Se Gabri ha possibilità Di passare o no Ah no Non lo conosco Non lo conosco Come giocatore Come giocatore Dico All'assemblaggio Grazie Adesso spero che non vi disturbi Ma abbiamo un pochino Anche la partita in sottofondo Dove è l'assemblaggio? Poi in Napoli 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 Gabri ti tocca il quarto posto Non sono nel torneo Quindi non devo giocare seriamente No? Ma sì Gabri ci importa Il posto ce la cia in tasca Ragazzi Sì sì Fisso Nel caso mi silenzio io Quasi quasi Si sente molto la partita Spesso gioca sulla linea Di difensore Ok 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 Se arrivo un ultimo Così nel frattempo Vi faccio anche la telecronaca Della partita Va bene Crash Ok Se lo volete No Perché perde Dapor Non dire così Stasera All'assemblaggio L'episodio Dove puoi perdere Non recuperare mai più Il sacred file Madonna Odiosa Quella pistola C'è All'assemblaggio Grazie mille Weven Alla prossima No All'atterraggio Cosa? È venuti all'atterraggio Atterriamo No No C'è 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 Che Spittinico Oh che bello Perde subito Saker C'è Una strada Sarebis 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 Non è come Nel video Sarebis Dietro Sagghiar Sarebis Sarebis Nel video Sarebis Sarebis perchè c'è da una persona di testo non è stato un po' seggia chi è no la cassa di mele maledetta maledetti sono caduto giù di sotto vabbè sono caduto pure io quindi no sono giù ahahah quindi tranquillo dai ho preso il muro anch'io e 30 volte ho preso il muro io ragaaaaaa ah è sempre colpa di bendy farne il dubbio ragazzi ma ma ahahahahah ok raga non mi posso allenare con voi c'è mi fate troppo ridere c'è la faccia io non faccio ridere quindi tranquillo ho preso la manche volta sì ma perché mi deve fare il pack e jump il pack e jump quasi quasi prima di finire la gara lasciano il mio volante mi facciano troppo ehi chi è che ha lanciato un bombe indietro Birichini Gabri prova a indovinare no prova a indovinare chi ho davanti eh vabbè c'è molto più gente forte rispetto al precedente che vuoi vabbè tutti no vabbè vabbè che gioco ragazzo non è brutto nooo anche se io lo abbandono deve fare il vantaggio enorme nooo dai ci riesce a passare ok ti ha schiacciato Pierpiero nooo a parto delle riserve stavo volando eh guarda che arriva dietro di te sta arrivando ho perso il sagra nooo ma a parto delle riserve è sicuro anche io lo perso oh mio dio mi stavi facendo una collisione no ma sei tu che mi vieni addosso che vuoi da me eh ma pure tu vabbè aia quanto mi piace saltare ai 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 un accumulo di fango nooo vabbè ma che cazzo è mi ha schiacciato per culino ma no ma dai ma perché perché ci avevo le riserve forse ho visto la caduta delle pia se le ho perse ma ma chi ha lasciato quella tnt lì ma ve indovinate ho detto prima dobbiamo mettere le cose volanti oh ciao grazie a Weven per i bittini non le avevo visti ma sono cadute nooo che cazzo nooo fai un nuovo tag a Sora piace mettere gli oggetti volanti mi hai schiacciato anzi le nitro volanti no no Sora volante cos'è? Sora volante mamma mia mi chiama ma addirittura ero sesto Sora e le nitro volanti ero sesto ero sesto nessuna della fine eh lo so beh crash ho sbagliato un po' non so pur un po' stanca sto tipo da due ore e mezza a giocare la vittoria cazzo in musolo se ti vedi la replica di come l'ho giocata prima l'ho giocata meglio prima ma che sta succedendo frank? ah mi stai tipo che cac... che cosa s... cosa hai abbonato da quattro mesi stem? cacchio è scritto frank? abbonato da quattro mesi ha copiato incollato male ha copiato incollato male il messaggio che piccola c'è ora no? c'è colle colle e bestemmia colle sta cominciando a riuscire a fare bene la... se a dove mettere la prossima si finiamo il giro delle piste e poi basta allora l'unica bella che c'è colle colle ma chi dice che fa schifo? ma chi ha detto che fa schifo? ho solo detto che non la so fare bene fa bestemmiare se sbagli si? ma non è bene ma banana voleva giocare con noi ma non c'è più posto penso vabbè sai che ti dico? poi se vuoi giocare banana prima che... perché non hanno il gioco proprio proprio banana banana se vuoi entrare forse si libera il posto da bernit se vuoi si si no ma nel senso se vuoi giocare banana non ho proprio giocato senza problemi la prossima faccio andare banana va bene vai va bene allora la prossima entra banana e banana aggiungi i miei amici su ps4 chi ha segnato raga? ha segnato Mertens ha segnato Mertens no o sono crashato o siete crashati mi sa che sei crashato tu sei crashato grande goal ce lo fai rivedere grazie prima di partire la partita? perché io vedo solo tanto narumi no niente sono crashato io sei crashato tu vabbè ci facciamo un bel goal vai vai me sta continuando il caricamento all'infinito eh infatti sta andando all'infinito hello darkness my old friend no ma non mi dite che devo che sce... no ragazzi che è successo? si sta inceppando tutto aggiungiamo banana gli amici as... non premete... non saltate l'intro un secondo no aspetta nooo perchè perchè ho detto aspettate ho detto aspettate quando siamo partiti vabbè la riparto eh faccio esci con il party no stavo vincendo e dai così me mi rinviti naru così ti invito no va bene va bene banana ti invito adesso allora aspettate ragazzi questo è imbrugliare quindi bernit ci fa il posto a banana? no io ero primo no la mia tendetti dai lo lascio male lo riposto a banana eh vai che così entra così si ne fa un paio di chiude va bene grazie allora un attimo che invitiamo un attimo che invitiamo ok allora vi saluto vi dico da twitch ragazzi va bene grazie ciao bernit ciao bernit allora banana non lo vedo andiamo più giù gabri riesce a rientrare perché se mi inviti si se no no si è inceppato il gioco ragazzi che sta succedendo si è inceppato il gioco si è inceppato il gioco si è inceppato ma non sono crashata raga ci sono no io sono da sola cosa sta succedendo sono crashato io all'ultima che sta succedendo raga la faccio io la lobby no no ci sono ci sono ma sono nascito io allora siamo soli soletti siamo tutti soli vabbè vi invito vai e una e una e una vi sto invitando vi sto invitando carlo ti ho invitato e chi dovevo invitare banana ah ok sono già dentro prima sono crashato subito sull'entra eccolo ma buonasera albe da chi devo andare banana ti ho invitato ti invito un momento calma ragazzi un momento sto impazzendo un attimo ma già bannate a gabri allora gabri dove sei ecco qua tutto a post come stai albe che soppre me rieccolo minfast ci siamo tutti banana è entrato proprio non voglio uscire ragazzi è entrato è entrato ok quindi facciamo che stavamo per fare scusate colle e tempesta ma manca gambero ci sta gambero ragazzi che state combinando con quelle spunte non ok devo bannarli non sto facendo scusate anche io c'è c'è fatti che che ha mandato la il tweet di monica no vabbè raga ma dove l'ha mandato? si divertivo con la spunta al night è stato ammonito perché monico non ce la faccio non ce la faccio monico monico facciamo questa figuraccia facciamo questa figuraccia su su colle ma chi gioca? napoli con contro chi sta giocando? scusa che cosa sta? azz 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 raga i caricamenti sono sempre lunghi raga 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 zitti zitti un po zitti un po please parla per il torneo dai dai tu ti dico io parlo eh madonna che casino oh madonna che collisione che cazzo era raga raga non mi dovete far ridere però ahhh son l'unico ahhh pendigore ahhh che brutto errore cazzo mamma mia ragazzi mh ma non è vero ma perchè no carlotta a nartonello non è carlotta a nartonello hai ragione raga ma guarda se l'avessi fatto nel torneo così ma signor la mia donna stava al fiume a lavar ho fatto le riserve di nuovo si prego eh ciao si no l'abbia fatta leggendaria nooo oh io dico perchè io davvero quel coso cosa ho fatto ho salvato una un giro incredibile ma si continuiamo pure così ad andare contro la spazionata mi piace proprio mi piace proprio mi piace già ragazzi mi piace proprio mi piace già ragazzi ahhh dai bernardo da malzardo vai via vai via ma ehm mio dio sono andata proprio a sbattere contro il tuo caso niente niente di niente di niente niente bellissima comunque questo è bellissimo mettete un segno di spunta vedete la devo far rivedere sta gara all'ultimo ho fatto una deravata al contrario e poi mi sono raddrizzato e ho fatto la stagionata non so come ma grazie del missi ciao giuste bravo cristian madonna room on fire sì poi dopo vado al torneo al torneo faccio settima tipo capito è arrivato adesso così si è forte adesso colle non conto proprio di vincere non conto di vincere sì torneone proprio torneone proprio non non è ufficiale non è ufficiale fatto da noi però già abbiamo cominciato a fare tutto il torneo è già cominciato noi io dio gioco martedì per questo mi sto allenando però domenica lunedì e martedì si svolge il torneo albe se sei interessato a vedere anche domenica domenica lunedì e martedì su canali di vari e vengo a farti il tifo ma si fanno i tornei ufficiali ci sta anche il torneo dell'esl però io non mi sono iscritta perché troppo impegnativo manco io mi sono iscritto nato io mi volevo iscrivere però sinceramente mi devo prima allenare un po di più no io a parte che ho guardato gli orari non riuscirei a giocare la prossima è tempio solo per sapere quali sono gli orari e le tre ho già visto sabato alle cinque orari strani c'è alle 15 dove tempio io ci sarei pure quell'orario però non partecipo lo stesso sinceramente ma mi da troppa ansia partecipare ai tornei così importanti poi ci stanno i pro dei pro che non è cioè veramente forti ci sta certa gente veramente forte non possono competere c'è già qui non competono che ci sta gente normale ma lì proprio sono i più forti ma ci sono anche i pro e chi lo sa bernit non lo stessa cosa vale anche per me ciao nate buonasera anche se io sono forti lo fai uno shot outtino a nate a fallo anche a just o giuste non so come si pronuncia il tuo nome comunque tra l'altro giuste o giuste comunque niente dicevo io se se vi interessa fare il tifo lunedì mi pare gioca gabri domenica gioca vendicolo per me e poi io gioco martedì quindi se vi interessa ragazzi entrare fare il tifo fate tutto esclamativo torneo ragazzi per le informazioni sul torneo oppure entrate nel mio gruppo telegram che vi informerò vendicolo vincerà il torneo con la lunga giuste io tengo ancora la replica della live su youtube che vorrei pubblicare ma non ho la mia colizione così però non ho parlato che c'è il fuoco la colligione ragazzi attenti alla cassa e tra un po la figlio non la prendere tanto è soltanto il primo giro fate che bandicor mi deconcentra bandicor ecco perchè dovete stare zitti sai che mi ha fatto la colligione tu annaccia la miseriaccia perchè è stato così tu mi hai fatto la colligione eh no ho visto pure come sei fagguto poi stavamo andando a passo passo e infatti poi fai quegli errori stupidi rip gambero nel torneo lì ho sbagliato pure io tutto per dirmi e gambero volati trip per sicurezza non solo scusa a fine pista la fine a gara perché c'è carlo dietro di me sicurezza anche se io ti vedo vicino a me quindi faccio attenzione facciamo attenzione salverò la sfida in base al tempo e si facciamo la curva più larga e così mi faccio super esatto proprio quello che è successo fatti superare anche da me no quello no cos'era quel crashato mitico perso di riserva casissima ciao bandicor come faccio quel cornering il gioco non è normale nooo e acchiappiamo gabry gabry ben io ho perso blu faia ciao gabry a questo è il blu faia ragazzi è un momento epico l'ha detto e io supero anche sora ciao sora stavo superando solo stavo superando madonna non mi sono perché sono sul tuo canale banana da acchiappo banana superatemi tutti ciao riuscire sono due di tnt sul traguardo ragazzi si no 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 questo è missile doveva canale dopo facciamo gare con armi a sto punto ti va bene come gioca sempre ma è sempre dietro di me hanno fatto la clippa il blue fire mamma mia ma gambero rip è morto qual è la prossima pista raga fiera di gola oddio fiera di gola e quella l'anno la gioco perché la pizza che vabbè sto scherzando vedo come vado l'ultima ma dopo che volete fare raga ma che finiamo fiera volete rifare di nuovo le piste o vogliamo fare casuale con armi non lo so c'è dipende da bene senza pizzi senza armi altre viste diciamo che io mi posso anche allenare ancora su queste qui dipende da voi se vi scocciate non cerdo mai ok no ma domani mi sto divertendo non è che sto giocando per allenare che ci sta pure rifare un altro è perché tu hai già fatto di girone c'è nel senso già fatto la giornata no no non è per questo sì è vero che per questo perché se no stai con l'ansia stai tranquillo che era questo ma sono qui ma cosa vuoi vernici male di mi piacerebbe vedere la modalità senza piste ma però sta tragiardando ma sempre dietro di me ma guarda sta tragiardando ma no se volete possiamo fare sette giri ma non mi sento sì allenamento sette giri sì sì devo allenare un po' la resistenza volete farlo veramente ragazzi sì ma io sto d'accordo anche tu bendicore sì sette giri ok dai ci sta sette giri non su drive in sempre le piste del torneo raga ma ne manca uno raga chi manca? mi sono morto io ah uh mitico no non mi fa niente perché non salta si dirapata al contrario e come mai sono primo sei primo no perché mi segna primo allora io sono seconda quindi non puoi essere primo perché vedo bendicore primo ok mi vedo primo e vedo bendicore da vicino a me quindi sono seconda ma io ti vedo dietro soro però almeno posso fredermi in i frutti wumpa senza che qualcuno me li ruba bravo ga madonna santa che scarpa ti faccio vincato io ora mi vedo prima è normale si io sono prima gabrio gamboro mi vedo una rubida io mi vedo prima assaltà assaltà realmente che cosa ho fatto me lo vorrei spiegare pure io perché te l'ho visto fare ho perso blufaia ho perso blufaia è una cosa normale è una schifetta sei una schifetta è una schifetta è una schifetta è una schifetta grazie per le spinte che mi dai in avanti dai ti ho fatto andare che schifo no sei una merda che schifo eh ha lasciato la bomba eh ha lasciato la bomba che schifo grazie per che lo sono passato non l'ho stato andare dai no sbagliato sono tornata indietro dai guarda che schifo domenica dai fai una derapata non andare dritto eh domenica da chi ci va non ti ho sentito mi sembra da 7 ah dovrebbe essere 7 addio amici perché gabri gioca lunedì e casta lunedì io gioco martedì e casto martedì come sì perché tanto siamo in 3 state a sinistra ragazzi siamo in 3 a castare state a sinistra mi raccomando sì sì ma io non commenterò poi la partita proprio riapparerò ogni tanto è soltanto per il tifo capito visto che sono io che gioco a questo punto sul mio canale non ci sta il male che mi avete ascoltato di stare a sinistra che è che ho lanciato uno scudo al photo finish banana si mi sa che dovevi stavo aspettando ero lì che giravo intorno con la maschera sei saltato te le ho prese tutte io penso le miele per questo gli stavo lanciando le bombe penso un po' ho finito gg banana gg banana comunque sei forte minchia ce l'ho anche contro il torneo banana il nostro banana maledetta ma che maledetta dai tra l'altro grazie per essere entrato nel gruppo mi pare che sei entrato tu nel gruppo banana è entrato nel gruppo benvenuto forse perché eri inattivo super inattivo come lo sono io per cazzo no tu ogni tanto scrivi c'è il bot che bericchino negli altri scrivo soltanto nel tuo gruppo e questo mi fa piacere scrivo una parola ok ragazzi allora mo metto sette giri scrivo un xd e ripartiamo da entra mitico un attimo solo che non ho ancora finito il caricamento caricamenti troppo lunghi no no intanto voi mi state divertendo a guardare o vi state scocciando cioè ditemi voi se no stacco la live allora impostazioni sette giri e ci facciamo la prima cioè gula ecco lì super allenamento ragazzi questo 27 minuti ma non è vero no dicevo mitico che infatti oggi avevo detto ci mettiamo 5 minuti dal blue bay 17 minuti ma non è vero al massimo ce ne metto 10 se vado piano ti è andato mai ma perché scrivi invece di parlare Fede ogni tanto mi sovrapponete la voce allora mi riesco a scrivere ok ok però stai anche nella live che carino che stai guardando anche la live chi? dove? come? è gabriel io non parlo quando c'è troppa gente anche perché ho pure nella testa la partita ora entro pure io voglio calcolare i tempi voglio caragonare i tempi di caricamento di cipiere con kingdom parts 3 sono sono quasi identici caricamente tutti i live certi sono un po' lunghi ok 7 giri eh raga senza armi mi raccomando ciao xd hai visto le nuove emoticon di Natale? no e chi l'aveva vista? bellissima di Natale ce ne sono 12 ci sono già le nove e mezzo ma non è vero hai detto che fino alle dieci e mezzo sei a merdare no io ho detto fino alle dieci hai detto le dieci e mezzo fusti oh madonna che cazzo sta succedendo? nooo ho perso il sacre il sart che è lì madonna le collisioni non so se il salto mi dà lenta eh vabbè è finita nooo chi l'attivata? nooo chi è che l'attivata? sora nooo che cacchio è la prima volta che lo attivo in tutta la mia vita è proprio adesso dovevi attivarla che stavo raggiungendo Carlo è fatto sopra ok ah dovevi fare serviziti così Carlo ce andava a finire davanti a me l'hai detto sora vabbè ve l'ho passata che vuoi? ho pure sbagliato era di nuovo su era di nuovo su grazie era su? come è su? come è che mi sono avvicinato a Carlo mi allontano di nuovo ma dai mannaggia quel salto di me no sta neve del mercoledì no mica cambero maledetto ma proprio adesso l'ho attivata vabbè l'ho ripresa non fa niente non fa niente l'ho attivata io per prima quindi vabbè madonna mia sbaglio sempre alle due vedete conto che non ho manco preso una cassa arma e vabbè pigi per me che d'altro ma anzora stai raditando malissimo grazie no perché ho largato così tanto chiedere tra portato dopo voglio vedere mi saldi la clip dopo voglio vedere mi saldi la clip dopo voglio vedere la fine gara dato che mi dite che sto laggando l'hanno abbassata raga ok abbassa abbassa grande l'ho mai fatto abbiamo fatto collisioni per tre giri di fila allora oh mio dio 29 16 27 59 ma gabrie ma salve ladro gentil'uomo ma salve ladro gentiluomo ragazzi uno shoutout anche al ladro gentiluomo anche a bendigo ragazzi uno shoutout anche a bendigo anche a nuku ragazzi attraverso i 26 l'ultimo giro è stato il più veloce 27 12 ogni giro a scendere e muramasa è ancora qui con noi ciao muramasa come stai ok la prima di resistenza è andata anche se quella cosa della rampa è un po io ci sono cacciato nel torneo è qualcosa da rivedere questa rampa perché effettivamente stanno gufando gambero non ci vuoi gufare gambero niente è già gufato è già funzionato ha già funzionato un'altra qui parta chi parte con 50 ma non è una occupata ma io preferivo i comandi con le lettere iniziali e dai puoi gufare tramite i riscatti punti giudami poi se gabrie lo mette tale quale a prima sul suo stanno gufando stanno facendo vincio è mitico vai mitico è già stato eliminato dal torneo seconda pista vai a crash forse faccio l'ultimo perché 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 ti sei stancato ma che film Harry Potter cioè tu levi l'abbonamento eh sì levi l'allenamento per Harry Potter è meglio il libro che il libro sì è molto meglio il libro sì tanto due o tre film due o tre gare in più in me me lo dice uno che non l'ha ancora letto ma che cazzo lo guardi a fare che tanto poi alla fine voglio muore cioè che cazzo lo guardi a fare perché vuoi farlo vivere ora deve rinascere ma com'è possibile che sia rovinato il mobile ma dai ma non l'ho manco toccato comunque ci mette più tempo quando sono sette giri a caricare eh mi sembra lento a prescindere sì ma è ancora più lento dico però per favore saltate anche l'intro saltate l'intro ma avete visto anche voi il card dietro ma no non l'ho visto che ha fatto mi sembra stare fermo sta pista già so che vieni ragazzi zitti però concentrati ma dai queste collisioni ma vai ma veramente ma veramente ho visto Carlo fare cose strane no 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 tutti i quattro un altro po' manca la sciocca io l'ho mai fatto madonna di no ma come per me lei che ha detto raga concentrate ho sbagliato tutto no adesso devi tornare a notare VR beccato avevo tutti dietro e comunque perché lo sa non è un'esagerazione lui sta tentando veramente durebbe dai recuperiamo io sono scarso in questa pista ma ho visto morire narumi che è successo eh lo so bendy ho perso il fire dalla mini mappa comunque no 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 sono andata a prendere le mille mi so qualcuno cadete sono io ti apri stringi ah mi sono allargato non fare la puls di stringi che ti ho visto eh da lì perchè? è morto il padre si mi muore il padre sento no ho perso lo sacramento ma anche io insieme a te ma che cazzo vuol dire? siamo in simbiosi gambero io mi sto concentrando adesso nooo ho toccato il muro fratelli io ho perso lo sacra di nuovo questo sacramento non lo tengo più sacra una roba da matti gabry non c'è è andato via occhio perché c'è una bala bombetta non puoi è andato via eeeeeee niente è sbagliato dai ho perso di nuovo sacramento oh mio dio gambero fai schifo gambero fai schifo non l'ho presa però fai schifo tanto è il settimo giro dai ti ho preso ti ho preso no ho mancato eh no ve l'ho tirata dopo il traguardo l'ho tirata tranquillo io avevo un missile per te nel caso eri terzi e ci arrivavi secondo minchia che fatica che sto facendo ho fatto 25.09 ragazzi ho fatto un giro di 25.09 ciao ballista cazzarola non me ne aveva uscito vabbè ma perché avevo le mele vabbè avevo le mele 25.25 25.25 vabbè avevo le mele per questo se no 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 perché il mio record è 25.15 del giro quindi ci sta che faccio schifo in questa pizza quindi si è caduto come un'azzo ciao violetta buonasera io non sono portato per questa pista a me invece piace un casino questa pista però a me sto stanca stiamo giocando tipo da tre ore mi sto allenando quindi diciamo che le dita sono rosse si sono da tre ore e undici e quarantanove cinquanta cinquantuno cinquantaduno tre ore e dieci si oh mio dio ci sono pure io da tre ore sì sì ormai si ci sta dai che mo sto stanchina però almeno mi so fatta un po' tutte le piste però per esempio ballo e altre devo farle intanto in prova a tempo devo farle perché se no non mi vuole faccio quest'acqua in su vado a mangiare come nasce sono rimasto tre ore come ieri pure facciamo quattro ore a tutti i piedi qual'è la prossima faccio una gara e chiudere ballo mi sembra ballo di ballo di koala madonna la odio ballo di koala ballo di koala ballo di koala quando scorro le piste mi lagga un po' il gioco oh ma questa cosa è strana è strabiliante è strabiliante ma strabiliante raga mi bevo ancora un po' di greppo no no dai gabri fai già schifo così si alex si stasera mi andava non ho fatto più la live serie ho fatto la live scazzata così c'è stata una paccia su ctr ah si si chiamava nessun aggiornamento oggi non c'è neanche il sfrino maledissimo ma non fa niente penso anzi no l'ha fatto 6 per il sabato come va alex abbiamo deciso di fare ah buona fortuna con lo spaghettone e che volevo dirvi stiamo facendo 7 giri proprio l'ultima fase 7 giri ci sta e poi si va si stacca the bundle 7 giri 7 persone ragazzi ci sta un posto per lupo eventualmente siamo 7 ho detto poco fa sì ci stiamo ci stiamo oh dio tu oh che bella la derapata al contrario a me qua mi partono sempre al contrario le derapate non so perché ma che bella ma che gioco di nuovo io non riesco proprio a giocare vedi di nuovo me l'ha fatta ci sta il boccino d'oro e ha sbagliato sora non ho toccato niente ma ho fatto un salto proprio sì questo gioco è magico hai visto sì ho fatto ho preso pure il buon pato voglio dire il boccino d'oro io voglio scatenere le belindirizzerve le belindirizzerve le belindirizzerve le belindirizzerve mea agabibo nooo per su staker fire staker fire staker fire è il staker è leggendario è saccaramento ma com'è fatto ma non ci credo per la collisione con verto io ho perso il torto ho perso tradito ho perso la benzina ben di cor ti acchiappo niente niente continuo a perderle niente 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 triggerato eh no qua c'è non c'è il blufaia c'è il staker fire lo so che non c'è pega c'è il staker fire siamo ancora al quinto giro oddio madonna infinita io pensavo stavo già a 6 no vabbè dai no nell'acqua non me lo meritavo perché c'è l'acqua ben di cor sbaglia non l'ho manco notato è sotto la la pista la scorciatore quella in alto no ho lasciato un'arma pensando fosse l'ultimo giro mi vado a buttare proprio nel muro lì lì la roba da macchina ma come è possibile scusa raga scusate veramente no pensavo fosse che fosse finita la gara narumi 10 punti in meno mannaggia raga vabbè scusate ragazzi io passo arrivo secondo come ho fatto eh vabbè oh mio dio quello scuso scappo ragazzi eh mannaggia mannaggia no che ho fatto no perché è molto grande ma donna ragazzi Gigi io la odio grazie Gigi mi spiegate cosa è successo vogliamo raggiungere questo obiettivo grazie Gigi ero quinto che siamo nati ma come come che ti siamo sì siamo a 44 sì siamo a 44 Gigi ragazzi non riuscivo neanche a raggiungervi neanche con le riservi ragazzi invitiamo un attimino per favore a Nukulais eh Gigi lo so però mi sa che non ce la si fa no siamo a 44 ne mancano ancora 6 perché sono scadute alcune capi ciao buonanotte no non so di più sono 44 ciao buonanotte ciao martedì me la bevo la grappa ciao invitiamo Nukul dai non sono di più sono 44 Gigi è da un sacco che non senti genovese Luca Cola grazie per il follow quell'altro giorno tra l'altro avevo notato il tuo nome che era bellissimo allora invitiamo Nukulais Alex ti vuoi unire a noi? c'è posto penso uno due tre quattro cinque sei ti posso invitare Alex? oppure se giochi tu Luca ma no Gigi io lo vedo qui lo vedo scritto qui che sono 44 sono questi i numeri ma perché ti stai ingrippando stai tranquillo poi se deve succedere succede Carlo, Gabri mancate voi ma io ci sono sempre no fare io ho chi il bimbo invitare che nel caso non ci sta posto la figlia aspettiamo controllo vediamo un pochino ciao minfastery ecco un momento sta avviando chi sta avviando Nuku sta avviando ma Alex non c'è più giusto? vediamo vuoi unirti io devo andare in bagno e vai vai tranquillo stai bene zio minca c'ho il covid vi da un po' lei oh personaggi pucciosi ne abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 un posto niente non arriva la nera c'è incredibile ma puttro buonasera ragazzi invitiamo intanto un attimo Alan in party ma Bernit c'è ancora voleva riunirsi che si è liberato di nuovo il posto tra l'altro la prossima pista che abbiamo fatto ballo quindi è fiale adesso giochiamo tutti con l'assistente con con l'assistente no dai voglio tenere la mia litz giochiamo tutti con litz ragazzi se qualcuno si vuole unire a giocare lo può dire potete unire potete unirvi e se non ci siete stasera ma volete unirvi qualche altra volta basta che fate punto esclamativo telegram oppure punto esclamativo torneo per tutte le informazioni riguardanti il torneo che si svolgerà domenica sera lunedì sera e martedì sera in compagnia dei nostri smokers boys e c'è seven sì c'è ora si inisce anche seven vai vieni seven che io vi lascio dove ne va no no due quattro sei sette la manca un'attività si 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 unisce l'attività ovviamente il napoli non brillato se non può essere soddisfatto mi può vedere con dark co lo invito anche in party raga intanto il napoli come sta giocando non vedo più la classifica qua sì si seven 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 non posso invitare hai già entrato nella mia qui dentro no non posso invitarlo perché uno due tre quattro cinque sei eh sì ma non posso invitarlo nel party ma perché non posso invitarlo ma figurati uno a zero per il momento ancora ok è lui che deve entrare sta già in un party eh no deve entrare lui ah cioè deve entrare però nel party ah ok volevo sentire seven eppure io lo voglio sentire a seven bisogna di entrare nel party cioè quindi io lo inviterei in un altro party per dirgli di entrare nel party se forse venendo nell'altro party ti ho invitato esatto ragazzi seven dice invitate in party ma io l'ho invitato no no diti che c'è già nel party di entrare lui ci sei già devi entrare tu nella lista dei party disponibili seven figlia ragazzi io non glielo so spiegare sta cosa glielo potete spiegare nel gruppo è entrato è entrato buonasera uè seven stiamo facendo allenamento pazzo sette giri alla tramille insomma meno male sono contento dai che mi voglio qualificare almeno ci voglio provare dai dai ciao putro grazie per essere passato io parto già battuto ragazzi dai gavri no non partire così minchia c'è banana boy che speravo fosse scarso invece è forte banana ma goofy grey goofy è forte ragazzi tutti sono forti tutti forti nella mia lobby insomma tranne squalo covro squalo però veramente che brutto che è matarella ragazzi stai bene sei contento di messi un nuovo co azzarola collisioni ma dai che atto di collisioni cominciamo oh stai collisioni gambero ma gambero cosa cosa vai da me stai collisioni come no dai veramente carlo mi è pensato attraverso ma senza collisioni e niente madonna sepe mi hai spinto ma roba da matti ma dai non capisco niente mi stanno spingendo ti dalla zona opposta ha fatto ma non ho toccato il muro dai ogni volta vedo carlo molto vicino a me che corne di infatti scusate oddio sono saltata perché nella partita qua stanno che palle che a volte nella shortcut ti rallenta anziché farti andare veloce forse dovrei saltare di più no devi saltare prima io in piano piano sto capendo il tempissimo per saltare no ma guarda come mi sono allargato ma che cacchia l'è dai no va tutto contro la cosa lo belisco lo belisco di balzer ecco Alan perché fa sempre la derapata nella zona opposta fioso e mi sono superato no ho preso lo salto male o la romi ma vai un po' a sbattere dai basta che non ce la faccio più ma perché mi vado a ridere ogni volta ma di nuovo serve e mi hai spinto ma non ti sto toccando sono a due metri impossibile no ce lo giuro mi hai spinto di nuovo nella mia visuale manco ti vedo immagino eh ora sono dietro eh gara persa quando ti concentri troppo sbatti carlo l'ho perso sei volte il sacre di vento delle collisioni ah ma ma hanno infilato in un gruppo continuo ad arrivarmi notifiche ci sto scappando di testa no dai no che cazzo di collisioni ultimo sono ultimo raga no non so no la boccetta la mia raga ma chi è questo stronzo ma è successo banana ti ho preso banana mamma mia raga banana c'era una boccetta che hai detto ma ho preso la boccetta chi è questo stronzo la boccetta sull'arrivo che l'ho messa vabbè la boccetta sull'arrivo ci sta dai però grande banana comunque no l'ho messa io l'ho messa io ma se c'ero pure io vicino è arrivato comunque prima banana che ti è successo madonna no io sono ultimo ragazzi ah no il Milan questo non è il Napoli ok Milan 3 4 a 2 sta il Milan il Milan contro chi sta giocando il Milan il Geno che Geno no boh non gioca il Geno il Celtic ma è terminata però non è non è non era non è in tempo reale ok ok minchia ma Tarelle è contento per il nuovo DPCM guardalo lì ho chiuso la live no ah beh no no nel senso ho chiuso soltanto la live non è la room ma cosa? live non è la room no invece che live non è la room live non è la room siete pazzi no vi prego ok ora ora l'ho riaperta allora qual'è la prossima? assemblaggio assemblaggio ok ma va che è quella che viene dopo se non me la ricordo a memoria scusate è una banda di pirati nanananana scatenati non so come si pronuncia nel bagaglio c'è la scorciatoia nel bagaglio che c'è nella scorciatoia ma ho capito che significa bagaglio il bagaglio? eh che intende? l'agg intende il lag quando diceva mi cosi un bagaglio voleva che gli portassi il coso della mozzarella no perché per me il bagaglio è soltanto la il bagaglio quello che usi quando piaggi sì sì non c'è più vino sì nella scorciatoia alla fine conviene pure non farla a quel punto perché se vai a sbattere è vuoto è vuoto forza ragazzi pronti 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 ragazzi ma perché non saltate? è questo che volevi dire vino ho visto quella parodia ma ma donna se collisioni a lei mio dio e l'accogliatoia la prendiamo domani che ora mi spinto me carlo mi ha spinto niente io raga per non per non prenderla cassa ma sono riuscito a passare giusto giusto grazie a carlo nella sua collisione niente sono caduto per la prima volta che che dico grazie a una collisione mio dio stavo sull'orlo delle specifiche madonna mamma mia che corne di un tavolo no non mi puoi fare plot salta non ho saltato per il gioco mi ha fatto no è toccato rego pasta nati ha ha ti ho visto ora vabbè ho recuperato il sac hai perso una posizione persa hai perso una posizione vedo io devo lasciare una bella nitro volante no mi esce nitro mi esci ho perso il sacre madonna la odio quella parte no ho perso le riserve karma non è in qua ma da nulla però ma no ho preso l'angolo beh almeno li hai recuperati in fretta eh non posso dirlo c'è da quarto sono passato a settimo ogni un anno se ho perso le riserve ma dai raga però mi fate troppo ridere non ce la faccio così ma non ti puoi allenare con gabrie a parte che è scarto a parte che è venito ora esco di casa oh è caduto carlo 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 è caduto bene 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 vai che ti acchiappo vai che ti acchiappo vai che ti acchiappo l'ho acchiappato tanto mi recupera sulpito problema adesso recupera sulpito e infatti lo sapevo ma prego il campone il campone ma prego annaggia ho parlato troppo presto ciao ciao annaggia eh non ce la faccio più comunque 7 sto arrivando eh quando sei stasso ce la faccio più soltanto da tutte le parti innaggia ho fatto una bella gara fino a un certo punto e poi ehi banana si stanco mi fa male il polis niente ho fatto di nuovo la riserva ma dai ma che io forse ho capito perché i caricamenti sono lunghi io pensavo che era l'ultimo giro che cazzo mannaggia io giuro pensavo che era l'ultimo giro si a un certo punto ti perdi proprio che per dire per tagliare il traguardo è stato lo scudo e l'ho lanciato via ehi chi è che stasano i missili ma non io chi è sesto io sono il sattimo ecco e chi è sesto come hai fatto ad andare come hai fatto ad andare così forte 7 semplicemente non ho perso il sacro ma neanche io l'ho perso e il tiro davanti mi stai volato sul come si chiama sul lì dei tamponi ma io te l'ho detto che si è scarso scusco eh ma ho perso adesso ho perso il sacro ufficialmente porca putt comunque ho specialmente stretto tuo pazzo eh adesso sono sempre sensata cosa ti è successo nooo 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 ma porca ciao 7 ma io sempre all'ultimo giro ehm ho perso da te allora che è successo sono a te ho perso ora le riserve però sono uscito eh io invece no perché mi hanno anche superati è di solito pure io all'ultimo giro sbaglio ma 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 semplicemente ma non ha chi era rimasto fermo per me il secondo posto è scarso ha detto fai bannano mandiamo il moderatore adesso no ma non era fermo poi alla fine che l'ho superato proprio alla fine la famiglia di più a 20 per cento d'amore tra te e il 7 potrei pure passare a vedere la tua diretta nato però il problema non possa accedere a nata qui devo accedere per forza da pc intanto il napoli si ancora uno uno vero l'importante è che vince parte di diverso a fare il tifo nato viene a fare il tifo sora tisi sono sicura che farò schifo perché mi alleno e poi con il tifo no faccio schifo e basta è solo quella però allora vediamo un po qual è la prossima colla 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 mi devi fare sempre sta battuta colla e bestemmia colla e bestemmia l'amazon ora minchia quante l'ho tirata un'altra giorni qua carlo arriva davanti cosa gambero dopo ranker vuoi ranker dopo? l'olto non mi assenterò vabbè io mi assento invece tanto prima o poi ce la faccio ad arrivare a 0 punti e farmi bannare ma quando fai quindi l'esl? credo sabato ma devi fare la diretta ah qui partecipo a l'esl? si partecipo ma mi buttano fuori subito mi fa male il dito pollice dopo vi faccio vedere la foto di come sta messo non riesco più a giocare anche io vorrei provarci ma di sicuro pure io non ce la farei no tu c'hai più possibilità no sei forte sora perchè non hai partecipato? se si possono fare ancora vabbè ma sono io che non voglio partecipare cioè quando quando ho visto la prima edizione proprio vedevo tutti quanti fare massimo cornery eh lo so io non sono capace di fare così tanto cornery però te la vuoi giocare si oh che vo l'ho fatto piano piano sto capendo come partite su con le tempeste mi troppo mi prende Antonello e io adesso lo sto capendo ma va ho preso la stazionata malissimo me l'ho preso di limite nooo ho perso sacramento oh mio dio che cornering che fai carlo wow che palle che palle uuuu vabbè Carlo qui hai toccato la stagione ma non mi puoi dare vabbè l'importante che non è perso le riserve due e questa è la parte coda il terzo giro che la palla sta nooo maledetto 7 non usare la maschera ma come le collesioni ma come le collesioni non sono io si ho piccato il nuovo dentro ti stavo poi superando ma se ho 27 km di vantaggio adesso prima no eravamo attaccati carlo perché usi la maschera ho sbagliato tutto dovevo andare a sinistra io ho l'audio questa pista eh ho preso la stazionata che palle che palle che gioco di merda ma forse era il bambino dell'audio parlato della maschera si vabbè però ho fatto collisione con Carlo proprio sul salto ho toccato proprio la testa del kart di Carlo mi ha doppiato Carlo penso guarda che a me mi ha doppiato proprio mi ha superato brutalmente ma io non lo vedo più Carlo io ero cercato dove stai? vieni qua maledetto dai ma che cacchio mannaggia salve oh mio dio l'ho presa giusto giusto questo ogni volta vedo Carlo che viene colpito che in realtà non è vero ultimo giro ma gambero ti ho ridoppiato ma mi ha preso con la maschera ma che stronzo non si può giocare seriamente qua ma tanto ormai era femminile si ho capito ma che cazzo cioè se stava sola dietro mi aveva preso però vabbè vabbè ma adesso se vedo gambero lo sbombavo scendo doppiato due volte e mi fai pisciato con la maschera no no cacchio vabbè ti facevo passare se madonna a me non l'ho conclusa a me non l'ho conclusa a me non l'ho conclusa mica hai visto come l'ho presa la staccionata eh ho visto ho visto ho visto ho visto ho fatto schifo raga io penso che faccio solo tempio perché fiera non ce la faccio più a fare fiera io non so nemmeno dai ormai fanno tutte e due eh va bene facciamo tutte e due poi stacco perché il mio pollice chiede pietà ma come dobbiamo fare ancora stazione o sai sono tre ore e quaranta due che gioco matta fonna ora ti faccio vedere il mio dito colpo di furmine mancano ancora tutte queste fiste ma cosa sto dicendo quello del torneo ma io mi fermo quando ti fermi tu va bene no ando perché oggi è un bonus perché non ci non giochiamo da tempo sì ma tanto riprenderemo quindi vista bonus colpo di fumo sette giri forza pure con te non gioco tu me ne sono accorto è vero mi sono messo troppo a giocare a crash quart io ancora non lo devo finire eh ma pure io mancano sette reliquie no a me mancano due livelli ancora devo finirlo in generale proprio ah a me mancano sette reliquie e ho finito ah beh manca il gioco raga invece a che a me manca il a che a me manca a che a me manca se se non vuoi besta in mare ti consiglio di non prendere è vero è vero e le mie clip su instagram ne sono la prova vivente si ma io non so come hai fatto a stare pervo di che hai ragione banana mamma ma infame eh l'ultimo livello lo sono morto cinquanta volte non so proprio il counter è arrivato a cinquanta però beh lì no lo prendo ce l'ho tutti devo prendere quello proprio è un inferno l'ultimo livello io sono arrivato gli ultimi due se no sarebbero quelli la tipo nella vigna la specie di mirino ah ho capito ha detto banana i forti saltano lo stesso ragazzi banana vi ha chiusi tutti quanti ha detto quando ti lamenti che qualcuno non ti fa saltare i forti saltano lo stesso anche se infatti mi ha attivato la maschera con uno stronzo di gambero ah non l'ho capito ma io ero fermo da due giri dalla stazionata quasi ma ha attivato la maschera però aspettatevi ah intendeva lui ok scusa ho sbagliato banana poi mi devi spiegare perché ti chiami banana poi ti chiami mi devi provare a l'ascire il tuo apparecchio che c'è il tuo apparecchio Sento Gabi, la cassa, attento No, l'ho presa Lo so, stavo a un millimetro però Pure io stavo a un millimetro se per questo Non siamo in Crash 4 dove le hitbox sono più precisi Guarda che la penalità vale anche per te che sei all'amministratore Noi che te la scappotti Eh no ma sapete ma perché cose varie varie gotti Una volta faccio una potenza perfetta Cerca non mi ha tenuto il blu Io poi non vi vedo, vi vedo senza blu Se siete passati tutti i tipi Sono normale Ma in realtà almeno ne ho un bagno, sono senza blu, che bello Ti prego non mi farmi ridere Io dico che vo l'ho fatto Uno mi ha visto che vo l'ho fatto No, sono troppo concentrata a do perdere il fire Ok Ecco l'ho perso Ho perso, blu Che figata però sta pista col blu Ma si è spento che non va a caso Oh mio No, madonna ho schiacciato l2, ho cambiato la cam Ma che tal Mamma mia Sei un maledetto cabri Madonna sono un buco A me che corning ring sto facendo Madonna quando sto facendo scrive Oh mio dio Madonna Scusate stavo per cadere in un modo incredibile Sto fanno ancora No Ma forno È venuta la paura proprio Non ho azzeccato una curva niente Oh, beh, devo salvare la clip soltanto per quella foto che ho fatto Ciao Seven Eh, mi hai doppiato Ho soltanto salutato Saluto Antonio Saluto Antonio Ecco l'ho pezzo Ciao No, c'era Alan che mi ha fatto Aveva attivare il motorino Alan Mi ha fatto sbagliare No, niente Per non venirti addosso sono impazzita Io e sono caduta Nella shot Non è colpa mia, è colpa tua No, infatti Ah Ho sbagliato Fortunatamente ho recuperato il blu Ero già sul posto Eh dai, ma che sale Che zona taglia il traguardo Bravo, sora E poi non ti vuoi iscrivere all'ESL No, non mi scrivo Io ho perso blue fire di nuovo Come mi scrivo se ho sbagliato là Mi avrebbero superato tu Però devo salvare la clip soltanto Non per la vittoria Ma per La salvezza Per non cadere Stavo Stavo ancora in aria E Gabriele ha concluso No, ho sbagliato gli ultimi due giri Perché ho girato anche bene E grazie a casa Ho imparato ancora una nuova Oddio ragazzi Sta 1-1 il Napoli Sta 1-1 il Napoli Sì, ma però c'è un calcio di rigore per loro Cavolo Carlo è un ottimo avversario Carlo è forte Qualche consiglio Carlo mi devi dare Io sì Il mio povero dito Il mio povero dito Le mie povere dita Comunque ci assomiglia molto A una parte di Genova Carlo è forte Però solo lì dal tuo orto No, te lo giuro Guardano il genovese Con l'accento sardo Cioè sono fantastici Non riesco a dimaginare Mi sono fermato Mi sono fermato A sentire due vecchiette Tipo Che cazzo le vanno detto Facciamo veloce Che tra poco devo chiudere Shigel ho passato Bellini No, però gli dicono Egli al posto di Bellini Shigel ho passato Tipo sta a Steia Ma è una cosa fantastica Cioè proprio Wolfie ha detto Su una schermo La live di Narume E dall'altro E dall'altro Harry Potter E' ottimo E' ancora ci fa Della Pernice C'è l'ordine di Locolice Capito un Lodo Spero che hai detto Tu padre è un mato Io l'adoro Che poi Sembra cattivo Ma non è Provo No e dai Tranquillo Wolfie Ma figurati Non ti preoccupare Io Sono già detto È perché È una parte all'uomo Tu ne ho detto Mi è successo Una cosa strana Mi si è attivato Il Sacred Fire Dopo Il Tante abbracci Io già sbaglio Domanda Quanti di voi Vedono questa pista Tutti Tutti penso No io no Io dopo Naggia Carlo Che mi prendi le mele Non capisco Beh l'ingamba non la sta correndo perfettamente Terzo Che tipo di merda Ma perché tutti questi assistenti? Eh L'assistente è Falso perché No ho aperto Blue Fire Dai che palle Quello che ha detto Coco Volevo dire Però Dimmi Ma anche il Sacred Ma com'è possibile? Io comunque qui Non capisco bene Nella curva Come si fa A non rallentare Concordo Cioè Non Eh io lo faccio saltellando E poi io saltello però Anche il U-Turn? Fai anche lo U-Turn? Ma Fai tantissimo Parli quella Dopo il Quella lì Prima del blu Basta Naro Mi stai rubando Eh Io sì U-Turn La fai anche lo U-Turn Basta Naro Mi stai rubando Le mele Io no Vedi che perdo le riserve poi Mannaggia No Io stai andando Cioè A me si sono Sì Ma doveva successo la stessa cosa Pure a me Mi hai detto Perdo le riserve Successo A me proprio in questo momento È capitato Ah Stavo per urtare Che bello che faccio Vedi la pace Mi è venuto un piccolo U-Turn Però No però io avrò perso il sacramento Perché sono da sbattere contro il sacramento È incredibile Ogni volta che sento Qualcuno perdere il sacramento Io lo trovo E lo so pass Lo perdi? È normale È normale È stato È stato Perché poi Io devi Prima che arrivi Di nuovo Blu Fire Eh sì Io penso io Adesso Prego Pass No Tanto non ce l'ho Per dire Ma sono Una boccetta Ragazzi Mi sono tirato Una boccetta Qualcuno ha tirato Una bomba Beh Chi l'ha lanciato Gabri Gabri Se non lo raggiungo La pizza Non è un problema Se si distrugge Come tosse Come tosse Come tosse Noo raga Madonna Io vi odio Comunque Cosa è successo? Perché mi fatti distrarre? Noo Madonna Gabri La deravata a contrario Pure ci voleva Sono un giocatore Vabbè Menomale che avevo la bomba Hai più culo che anima Chi è? Che l'ha intrati Banana Banana Sì Sta dietro di Occhio alla pozione Ma è la presa Ma tranqui Mi dico Non ti preoccupare Dite prima e poi dopo fate tutto Ma andate a cagare Però Porca trolli Che fanno? Che fanno? Che fanno? Ma no Dicono Che la montano Perché lanciano le cose E poi lo fanno anche loro Che fanno? Dai Dove tranquilli Guarda che L'ha tirata Ragazzi Mi state facendo diventare Il re genuco qui Tranquillo Io ho usato il E poi ho usato la bocetta E' stato ricambiato Semplice Però l'hai mancato Il importante è che non mi ha preso No io non c'entro niente Sono soltanto il visuale Raga Mi sarei arrabbiato nemmeno Raga Una con le armi E poi Va bene dai E con cosa però? C'è 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 gambero arrabbiato con me No perché? Dai l'ultima che posso fare Arena Eh Che volete fare? No arena no Faccio l'ultima con le armi No vi prego Dai raga Possiamo via l'elettronico Sette giri con le armi Sei pazzo E vai Ok Ma perché via l'elettronico Ok io non c'erò Va bene Sì sì Un attimino che sto avviando Banana però questo è barare Quindi con armi Carlo se n'è andato però No dove vai Verdossi? Non lo so Dobbiamo fare ancora colpo di fulmine Verdossi dove sei? Ah intercambi Ripro Verdossi Riesci a entrare? E all'elettronico Boss Z Bannate lo Vananna Vai banana vai vai Fai della spina Bannatelo Nooo Non lo posso bannare Lo banna 7 do Lo so già Esatto Lo banno io Vado subito a bannare banana Faccio una petizione contro banana Posso di fare le petizioni? Fate le petizioni sull'online di Melody on Memory No, io faccio le petizioni sui pan Fixatemi l'online di Melody on Memory Ma ci sta Carlo Prego, voglio giocare qui Carlo non la farà altre cose Ah, non vuole giocare? Posso partire, sì o no, raga? Raga, non sento Che dici? Vai, vai, vai Nuku, stai parlando, non ti capis Vabbè Ok, ma non ci pensare più, mamma mia Allora, ragazzi, io avvio con le armi E' stavolta, quindi si può fare Ma via l'elettronico se te giri veramente? Sì, ragazzi Con le armi Tanto non me la ricordo più come si fa Meno male che c'è Gambero È RIP che apri Posso sfogarmi su Gambero? Finiamo in bellezza Posso dire RIP qualcuno? Dico RIP Mestiz? Io non punto al primo posto, io punto su Gambero Io volevo sbombardare Verdossi Però è scappato Se ne è scappato piglia Odia le cose con armi Per questo sei andata Quindi banana punta a me, penso Veramente Perché prima punta da me E me lo dicevi, facevo un'altra pista E vabbè E vabbè Vale tutto? Sì Cioè vuoi fare lo speed ghost? Speed ghost no L'ho fatta di merda Beh, meno male Non mi ricordo più come si usano le armi Aspetta Con incerti Sì, occhio Eeeh Vabbè Oddio Mi avete fatto volare per l'aria Grazie Perché ho tolto lo scudo Quando sapevo che mi è colpito Ma No, vabbè Ma prendere dopo Vaffanculo Madonna raga No Pistole è un'altra Che sto creando in questa pista? Non è un banana Oh, io raga Ancora non ho preso una cazza No, ancora non ho preso un cazzo Niente No Sono missi Ho perso più faria Dai Sono missi No No Madonna raga Non me la so più fare Sta pista Non la so più fare Ma cos'è? Sfera, sfera La sera non è meritata Ma no, la bomba lì Petto di merda Ho visto la scena da dietro Le quinte Volete la clip o ne caso? Ah, devo ammazzare banana Mi sta battendo 3000 Madonna sora Madonna Ops Ma Ma Madonna E basta L'ho preso in aria L'ho preso in aria Boom Sono esplosinato Il karma Seven Cadri In aria Mi sto malissimo Il dito Cadri Lo sai che E' leggero Non puoi E' leggero Posso continuare Cazzo Un mio dio Come ho evitato Quella boccetta Madonna Come l'ho presa Come l'ho presa Sta boccetta Non lo so Ma da me non ce la faccio Ma che io devo bestemmiare Basta Madonna 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 Mamma mia come l'ho schivata Madonna Stavo prendendo la mia stessa boccetta Invece C'è il mister che ti segui ovunque A me No che cosa ho fatto Ho sbagliato A rip Gabri Rip Me Ma Meno male che ho messo Lo C'è pieno di boccetta C'era Madonna Sto perdendo proprio il controllo Qua Incredibile Non sta capendo più niente C'ho provato C'ho provato No Proprio adesso Rip Gabri No Sono caduto di nuovo Sono caduto due volte No se c'è c'è Maldio canto Scusa Io c'è Ecco lì Ecco lì Mi ci mancavano anche i razzi No che palle coi razzi però Oh no Gabri Sei sullato anche tu Ciao No siamo ancora a quinto giro Prima Oh mio dio La discarica Ero primo Tutta la gara Che ero primo Tutta Grazie Giove Mi dai tutti sti scudi Stranamente ho un doppio abbonamento No non è Non è Non parlare come practice Mi dà fastidio E finzione E finzione No 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 la batteria si sta scaricando Vabbè non ha fatto effetto Peccato Tebbè non ha fatto effetto Preso la niti Speravo che ti rallentassi ancora di più No Troppo hai sbagliato il tempi Va bene avevo un altro Vabbè come mi bevi Oh mio dio quella lì Ma è lì Cioè da prima a secco Salve Narumi So che mi vuoi colpire da là Nooo Sono uno che osserva sempre la mazza Ma che è da di tutto Maledetto Non ci credo Non ci credo Madonna santa Ma vaffangala Perché a me mi prendono i missivi A te no Non ce la faccio più Perché abbiamo scelto questa pista Ma voi avete detto Avete detto voi Dove avevo detto arena Dove avevo detto arena No arena è ancora peggio Dai Madonna quanti nitro Oh mio dio Oggi vi faccio posla L'ombocco l'esito No Ho mi fatto di una gara ragazzi No Lo so che non ti raggiunge seta Non l'ho presa Non ci credo Eh no mi è stato passato Mi è stato passato Oh mio dio Come è evitato quella Pozione Ho preso l'altra Vabbè Ho evitato una pozione E l'ho preso un'altra Vabbè ma gambero Prima non si può vedere Perciò l'ho dovuto superare Ma è incredibile C'è tanto quanto è Grande Ma chi è che mi sta mandando Tutti questi missili Banana boys Banana È l'unica persona Che mi è venuta in mente Madonna Seven Ho fatto 5 giri davanti Terzo Che baffasso Perché 5 giri davanti È colpa tua È colpa tua che sei scalso Oh c'è una poccetta di merda Seca Ho fatto 4 Ti mo Sono finito quarto Con una faccina della madre Eh vabbè Ragazzu Io penso che stacco No aspetta Non ce la faccio più Vi faccio un bel rai dozzo Vabbè Ma è possibile che ogni volta che sono dietro Non trovo mai una sfera Dovevi tirarla una bella sfera Ragazzi allora che vi volevo dire Un momento sui ragazzi Che saluto quelli in diretta Vi volevo dire ragazzi Se volete entrare nel gruppo Telegram Questo è il link Sia il canale sia la community Mentre per quanto riguarda il torneo Trovate tutte le informazioni ai seguenti link Mettete il follow ai miei Amici Seventinem e i Smokers Boys Perché Casteremo La diretta Su queste Su questi canali Domenica lunedì e martedì Quindi questi tre canali Il mio Quello di Seven E quello degli Smokers Quindi mi raccomando Tutte le informazioni le metteremo nel gruppo Proprio CTR Master Cup Mentre per quanto riguarda me Domani sera Farò una live serale Molto probabilmente Verso le nove Nove e mezza Quindi se volete Rimanere Aggiornati Seguitemi sui vari social Grazie mille Della compagnia Posso richiedere la sigla E qual è la sigla? La sigla La nostra sigla La posso richiedere? Eh non possiamo farla vedere La facciamo vedere domenica Domenica Speriamo martedì di vincere Io Ce la metterò tutta Non è partito il raid Raga È partito il raid Ah è partito Ah è partito Va bene Ah eh devo staccare da qui la live Come si fa a staccare da qui? Trasmissione Trasmissione Com'era? No non mi ricordo più Dalla play com'era Così si chiude così? Impostazione Un momento Non riesco a chiudere la trasmissione Come si chiude? Interrompe la trasmissione Ok Fatta Fatta